patch note ragazzi patch note è il momento video di lapo oppure leggiamo noi vi dico solo che il video di lapo dura 52 minuti quindi non so quanto può arrivare una mia quanto può durare una mia reaction facciamo che gli oggetti li guardiamo da lapo e noi guardiamo i baffi ai campioni action man action è il più una mancina di campione se fai due criteri potrebbe acquistare una furia di ginzo che è una conferenza potere magico non voglio spoiler ok dai la terza carica ok baffato ma dove scudo non l'ho capito però ok vedo che è uguale vabbè che se ne frega non è importante vendetta l'amico 40 40 per cento più 5 per cento potere magico questa è una gran rottura di coglioni un baffino ad action ci sta calistina calistella rallentamento aumentato quindi builderanno tutti questi cambiamenti sono per la ginzo cioè sti aumenti di potere magico sono dettati dal fatto che stia di carri builderanno ginzo tutti questi cambiamenti ragazzi sono dettati dal fatto sono dettati dal fatto ragazzi che builderanno la ginzo quindi potere magico rallentamento che aumenta in base al potere magico non credo faranno così tanto potere magico però giusto voglio sperare cento potere magico è follia non esageriamo danno fisico uguale ma potere magico ok danno di per carica potere magico anche qua invariato tutto invariato ma aggiunto il potere magico della ginzo ok frenesia del lupo ok stessa roba sempre per la ginzo quindi sono rimangono invariati ma aggiungono il la piretio sulle sulle cose ok tutto invariato ma aggiungono la piretio ok poca roba nico buono buono in giungla è stra buona sta roba r follia r 100 0 ok allora ragazzi la r serviva perché era stata nerfata un botto nonostante il cambiamento al champion il danno era troppo nerfato questa roba qua dovrebbe aiutarti a bursare sul 100 0 quando trappi quindi è buono questo è buono vain non ecco questo è un errore questo invece è un errore perché non ha senso capisco la roba della ginzo ma vain la utilizza troppo bene non ha senso fare questa roba qua non ha senso fare questa cosa è inutile cioè voi mi state dicendo ragazzi che ci sono ad carri che sono palesemente sbroccati e hanno baffato gli utility il costo degli item il costo degli item è ridotto anche per gli utility però gli item degli utility sono stati nerfati e baffati almeno il il moonstone che ho visto io l'eco velia è broken l'eco velia più mandate è broken quindi gli item degli utility sono baffati gli item da tanker sono nerfati perché il build patting è peggiore rispetto a prima in più il night vow da meno velocità abilità forse è baffato in altre robe però ok andiamo a vedere il video di lapo lapo ti prego fai dimmi che non sei un figlio di troia già la pacina ci sentiamo quello che ha da dire lapo terena strasfanti signore e signori benvenuti alla patch più grossa se sei forte sali non ironicamente vero hanno deciso di prendere e sventrare una manciata di sistemi che sono particolarmente importanti tipo mi fermo un attimo ragazzi posso chiedermi una cosa ragazzi in serie muta le di perché devo sentire parlare l'apo cosa sono uscite ieri non sul league anche su fornite e come mai nel giorno nel giorno del cambiamento anzi il giorno dopo ma possiamo mettere benissimo il giorno dove un altro competitor dove un altro gioco fa un cambiamento incredibile arriva un cambiamento incredibile anche su league a voi signori bravi vedo che coincidenze no non è una coincidenza questa non è una coincidenza si sapeva già probabilmente che sarebbero uscite le ranghe di forne 100 per cento è così 100 per cento è così le ranghe di forne porteranno un casino di persone un casino di persone a rigiocare a fornite e league signori devono in qualche modo signori complotti no non è complottismo signori non lo è con l'ovvietà deluso ok è un'ovvietà scura dottor streggio poi gli oggetti da critico tutti i pattern di early game sui minion e un'altra serie di piccole cose che facevano una grossa differenza e sono sono un po stupito ok la definisco la mill season patch la patch di metà anno che va a fare grandi cambiamenti ok però sono troppo grandi cambiamenti ragazzi cioè li ho visti comunque li ho visti tutti gli oggetti nuovi mi hanno detto di una meccanica sui minion che non mi ricordo mi hanno detto non so se è stato ciro a dirmelo io quando parla ciro faccio finta di ascoltare sapete come sto sapete come funziona quando guardate ciro lo guardate perché dice stronzate non guardate ascoltandolo al cento per cento quindi non gli ho creduto al cento per cento ho sentito se le gente è minion minion ho pensato stesse parlando di se stesso minion 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 quindi so che c'è un cambiamento ai minion ok e tipo questi non potevamo farli tipo in pre season quando non è successo un emerito cazzo tranne per la jungle che il cambiamento alla jungle dopo due mesi è stato interpretato è tipo bella non è praticamente cambiato nulla ci sono gli oggetti pet comprate il pet giusto buona fortuna che non hanno impattato a sufficienza per dire ah guarda il gioco è cambiato per tutti i player ora mi parte già mi sta già partendo l'embolia perché quando ragazzi si parla di giungla è cambiato è cambiato vi ricordate early season che c'era l'esperienza di merda che obbligava che avevano tolto che il counter jungling avevano tolto il counter jungling tipo all'inizio season una roba del genere quella roba lì 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 aveva cambiato completamente il meta jungla aveva cambiato completamente il meta ma non proprio il meta il modo di giocare del jungler aveva cambiato quella roba aveva cambiato non è che cambiava il meta ma aveva cambiato il modo di giocare Togliendo il counter jungler Perché era meno utile E facendo gancare il triplo I jungler di merda Che comunque non andavano indietro di ex Perché i campi in giungla Li danno e dà un botto di esperienza Bene Quindi Non so se c'era più impatto in giungla Non è cambiato niente Non è cambiato niente Per il laner è cambiato Per la giungla magari no Perché dicono che ganchiamo di più L'esperienza è sempre quella Non è cambiato un cazzo per loro Per il laner è stato l'inferno L'inferno Per nulla Questo colpisce I cambiamenti degli oggetti di carry Gli oggetti di supporto Anche alcuni oggetti di assassino E una manciata di altri piccoli bilanciamenti Quelli Questo sbilancia tutto Questo decide Ah sai cosa Il meta e mid è cambiato Bilancia tutto Sbilancia tutto Parole di Lapo Parola di Lapo Sbilancia Una parola che non mi piace Quando si tratta di league La parola sbilancia Non deve esistere Speri di stoppare Se vuoi Speri di stoppare Quinta la live Perché io sono così Qui non rompere il cazzo Signori La parola sbilanciamento La parola sbilanciamento Non mi fa girare i coglioni Quando si parla di league E se devo iniziare il video Con l'apo che dice Con l'apo che dice Questa pace sbilancia tutto Come se fosse bilanciato prima Come se fosse bilanciato Cioè ora ci dobbiamo aspettare Lo sbilanciamento Signori Un grande applauso Un grande applauso Signori Ora Arriva lo sbilanciamento Ora Prima era bilanciato Grazie Lapo Prima era tutto bilanciato Signori Assolutamente sì Mette in giungla Deve cambiare A parte A parte il pass Giusto Lapo Che tu hai sempre problemi Con quello il pass Perché per forza Le cose cambia Dipendentemente da Midevot E Toplin è là Che guarda Tipo Ah capisco Buona giornata Signori Lanciamoci Facciamo Una veloce passaggio Su questo Modifica che inseriscono Perché ci sono Akshan Kalista 100% Partiamo Dablot Per quelli che giocano Normal Ok Per chi è fan Degli oggetti D'addy carry Modificati tutti Quasi Andiamo a parlare Degli oggetti D'addy carry Che sono stati Modificati tutti Quasi Tanto Presentemente E quindi E torna La static Oggetti Da D'addy carry Partiamo Nel ruolo Botlin Il ruolo Del gister Gli oggetti Degli addy carry Mi toccano Direttamente Mi toccano Direttamente Perché è il mio Laner A fianco Voglio vedere Quanto sono stati Baffati Quanto sono stati Baffati Tutti gli oggetti Ho sentito la parola Static Voglio vedere Quanto sono stati Baffati Ricordiamo Che il meta Support Ovviamente incide Anche se il meta Il meta di carry Incide ovviamente Se il meta support Perché se sono turbo Giga broker Gli utility Rendono L'addy carry Giga broker Ancora più broken Bene Invece Dei danni bilanciati Rendono Gli utility Broken Lo stesso Perché rendono La roba bilanciata Sbilanciata Quindi ancora broken Mentre Se gli addy carry Invece sono In uno stato di merda Che fanno schifo E non fanno DPS I champion I champion utility Rendono bilanciati I champion di merda Quindi sono broken E i champion Playmaker tank Sono forti Perché non subiscono danni Capito Quindi se il meta Fa cagare E il meta è buono E tutto I sapori utility Sono broken Se fa solamente schifo I playmaker Engager Sono utili Anzi Sono bilanciati Questo è importante Per chi è fan Degli oggetti D'addy carry Vecchi Partiamo Dalla bloodthirster La bloodthirster Torna a essere Quello che era una volta Un oggetto Che ti dà Una grande quantità Di attacco fisico E di lifesteal La lifesteal Passa dal 15% Al 18% E adesso Non hai più Lo scudo Che ti protegge Ma Adesso hai Una passiva unica Che Dice come segue Se hai più Del 50% Di vita Ottieni tra i 10 E i 40 Di attacco fisico Dipendentemente Dal tuo livello Ragazzi Allora Per favore Usate il cervello Vi prego Vi prego Usate il cervello Vi prego Usate il cervello Ascoltatemi Costo invariato Invariato Costo invariato Costo fucking Invariato 3% Lifesteal In più La passiva Non ti dà più Lo scudo Lo scudo Non c'è più Lo scudo Non c'è più Una cosa Che non mette DPS Lo scudo Bene Però Ora Non c'è più Lo scudo Ma In base al livello Hai da 10 A 40 Ad in più Dato che Non c'è più Lo scudo Cosa sarà Broken Secondo voi Vai Facciamo Partiamo Già così Già da leggere Questo Che support Che tipologia Di support Saranno più Broken Rispetto ad altri Parto già con questo Già al primo oggetto Già al primo oggetto Già al primo item Un item Da più ad Ti dà meno difesa Costa uguale Ma ti fa più danno Di prima Quindi Bene Partiamo già male C'è Draven Che è là Che si sta segando In un angolino Felicissimo Eh per Draven E basta È proprio Draven È proprio Draven Che lì è È Draven Che è là così Lapo È Draven Che è già così Non è tutto Non è Samira Non è qualunque cosa Questo nuovo item In generale I crit user Che riescono A posizionarsi bene Vengono premiati Dal builder A Bloodthirster Quindi Ho i diritti Per guardare video di Lapo Seven Non è la Coca-Cola Non è Riot Con le MSI Lapo È un tizio Che di Okane Fa un quarto Delle mie bursa Che se li guardo Il video di Okane Prende soldi Se io guardo Riot Riot non prende soldi Sì prende soldi Riot non prende soldi Già che ne fa miliardi Lapo non fa miliardi Lapo fa 150 euro Perché gli da Ne da 120 La madre come paghetta Ai no Nice Bel design Vuol dire che Vai a premiare Positivamente Un corretto positioning Con tante statistiche Oppure paghi Un positioning di merda Ma con l'Enchanted Utility Che ti parla il culo Un pessimo positioning Invece viene punito Perché non tieni Tra dieci E quattro Esatto Bravo Good job Riot Bella roba Lag in Senti Lapo Quindi Quindi Support Playmaker Così era Quindi Support Utility Andranno a parare il culo Se vai fuori posizione Di merda Rendendo quella merda Broca E non Good job Riot Mi rovinano Lapo Il meta Support Il meta Support No Good job Riot Non è Good job Riot È cambiare Rovinare Il meta Support Ne siamo Appena usciti Ragazzi Ho iniziato Voglio giocare A Master 300 LEP Come sono usciti Gli utility Di meta Oh No I Usciti Di meta Sono comunque Rotti Ma non hanno L'impatto Il primo Rispetto A playmaker E ora Me li ribaffano Aspetta Aspetta Magari Però è nerfato Tutto il resto Fermi Metto le mani avanti Vorrei mettere Le mani avanti Sull'app Porca puttana Aspettiamo Vediamo Magari Tutto il resto È nerfato Forse Rimane Un oggetto Mitico Questo Invece La Cracker Slayer E Li Mortal Silbo Non rimangono Mitici E dopo ne Parliamo Viene modificato Il suo build Pat Non c'è più Non quiver Non c'è più Una piccone Ma adesso c'è Un MC spada Una zial Costo invariato E una long sword Più 650 gold Il costo Non è variato L'attack damage Scende di 5 Giusto Speed scende Di 5% Giusto Ma ottieni 7% Di boom speed Meno ad Meno attack speed Più boom speed Ci sta Ci sta Boom speed Carino Cosa va Io mi metto Già a rire Perché faccio Sempre queste domande Farò sempre Queste domande Al pubblico Movement speed Cosa va A rendere Quali support Andrà a rendere Più forti I support Che buffano Ulteriore movement speed Sustain O il playmaker Che devono cercare Di ingaggiare Sul tizio Con più movement speed Prego Bene Bonus Quindi Fin da subito Tu ottieni Molta più movement speed In tutto questo L'attivabile Rimane invariato È sempre Quello Fai uno scatto E spari Tre proiettili Che fanno X quanti attivi Di danno Bella così Dai Grazie Arrivederci Adesso scala Con il critico In modo da potenziare Il colpo Nel momento in cui Hai probabilità di critico Per quale motivo Perché adesso Se tu prendi La gale force Non puoi prendere L'infinity edge L'infinity edge Le navori E la rage blade Sono stati resi Oggetti mitici E dopo Ne andiamo a parlare Adesso la passiva mitica Non ti dà più movement speed Nella gale force Ma ti dà 5 di ad Per ogni oggetto Leggendario Successivo Che vai a buildare Mi sembra una buona modifica Più che altro Perché devi compensare Il fatto che Non puoi buildare L'infinity edge Prendi la gale force E questo costringerà Certi adi carry A dover scegliere Ok o non faccio danno Se vado di gale force E gioco sicuro E posso permettere Di giocare sicuro Oppure vado in infinity edge E faccio danno Che è una buona cosa Ci sono campioni Che continueranno A utilizzare la gale force E riusciranno comunque A fare danno Per loro meccaniche interne Vedi ad esempio Jin Che comunque Sarà felici Se vuoi poterlo fare Allo stesso tempo Fare Cannonate Foto Situazionale In base a Sela di carry Può mettere dps O meno Non situazionale In base al champion Grazie Coniche che distruggono La faccia della terra Dipenderà Da situazione Allora Di così subito Grazie Il typhoon La versione potenziata Ti dà movement speed In più Ma ovviamente Ti dà meno attacco fisico E velocità Attacco Di prima La nuova La nuova Fottuta Rageblade Di merda Qui ragazzi Voglio spendere Due parole Mi aspetto Una cosa Sensata Quando si rende Quando si fa Un cambiamento Grosso Mi aspetto Di vedere Un item Di merda Ok Quando si fa Un cambiamento Grosso Mi aspetto Questo Vedere Un item Di merda Che poi Viene Baffato E Dato i cambiamenti Sulla piretio Di tutti Quelli Che abbiamo Visto Prima Mi aspetto Che questo Item Faccia Molto Cagare Perché Se hanno Cambiato Tutti i Campioni In quel Modo E poi Hanno Anche L'item Rotto Direi Che c'è Un problema In solo Più Molto Grosso Bene Quindi Mi aspetto Che questo Oggetto Faccia Schifo Bene Nuova Queen Su Rageblade Già vedo 600 gold In più Quindi ho il cazzo In mano Brava Riot 600 gold In più Mi piace Buon dio Questo oggetto Quanto Vorrei Tirare Testate A chi L'ha messo In questo Gioco Nella sua Versione Nuova Allora Costa 200 gold In meno Degli altri Oggetti Mitici E già Qua Partiamo Male C'è un problema Stai addirittura L'ha poi tiltato Vuol dire Accelerare Velocemente Su questo oggetto È una cosa Estremamente Forte Adesso lo costruisci Con un amplifying Tome Con un piccone E una Rage knife E 690 gold Costa 3200 gold In totale Ti dà 30 di Poco 30 p Poco 25% Attack speed Una merda 45 C'è un cazzo Di statistiche Godo Perché Però questa cosa Adesso Hai Una passiva Che ti dà L'8% Attack speed Per ogni autoattacco Che tiri Fino ad un massimo Di 4 volte Quindi è il massimo Di 32% Di attack speed Oltre al 25 Quindi in totale Hai 57% Di attack speed A questo Item dopo 4 autoattacchi Non solo Quando sei a stack Massime Di questa passiva Seating strike Ogni terzo Attacco applica L'effetto Unito due volte Vedi a W di Vayne A W di Varus E così via E così via E così via Non solo Adesso Tutti i tuoi autoattacchi Fanno 30 danni Magici in più On it E la tua probabilità Di critico Fa fino a 150 danni In più Il che vuol dire Che Senti Poi Senti Tu fai 180 danni On it Buon dio Aspetta che non ho sentito Non so come sia venuto in mente Il che vuol dire Che a full build Tu fai 180 danni On it Buon dio Non so come sia venuto in mente Questa Riot Ma Cioè ragazzi Ragazzi Andiamo Ma scusa Va bene E adesso E adesso La passiva mitica Che è la cosa più stupida Del mondo Ti dà il 5% di Animal penetration E 6% di magic pen Questa passiva mitica Ti dà 600 gold di stats 565 per essere precisi 600 gold per arrotondare 600 gold di stats Per ogni oggetto Leggendario successivo Quindi se tu Tu non prendi A rage blade Come primo item Tu prendi La rage blade Dopo il crack and slayer Che adesso andiamo a vedere Provate la build Crack and slayer Rage blade E runan E poi Fate esempio Su kogmo Su varus Campioni che vorrebbero andare Di build on it Anche ascio Non ha problemi Con questo tipo di Ma Come fa la gente a dire Come faccio a non pensare Che non sia Meta Meta Utility Come faccio Come faccio a non pensare Che bisogna parare il culo A sti figli di troia Se ho un tank e contro Mi sciolgono comunque Mi sciolgono Se vado lì con i champion Mi sciolgono Mi sciolgono Cosa devo fare Che devo fare col playmaker Che devo fare Mi one shottano Mi one tappano E allora mi triplichi Mi aspetto Dei buff clamorosi Mi sciolgono Mi aspetto Dei buff clamorosi Ai tank E poi Venitevi a dire Che è sana di mente Come build Quantità Idiote Di danno magico Come ho fatto Come ho fatto a vincere Con Alistar Prima Se leggevo Dite che se leggevo La pace Prima Perdevo il game Probabilmente con Alistar Sapendo E perché il tizio Mi ha giocato Lucian contro Allora Sapendo questo E di danno fisico Comunque Nel frattempo Devi arrivarci A questa build Ma è molto meno costosa Della build a crit Poi vedremo Come la build a crit Si evolverà Il sitting sorrow È la versione Potenziata Grazie Diamoli la versione Potenzial Senti Guarda C'è anche la versione Grazie Rio Games Grazie Rio Mi sta venendo voglia Di giocare La nuova Silla Mi sta venendo voglia Di giocare Quindi Bella Ti dà più attacco fisico Più potere magico E più attack speed L'hardbound axe L'hardbound axe È sempre stato Un oggetto Che molti di carri Vorrebbero buildare E infatti Cosa ci devi fare Modificano l'hardbound axe In modo che Costi pochetti di più Costa 100 gold in più E adesso ti dà Con long sword Daga long sword E 100 gold in più Non ho mai visto Quest'item buildato Lapo Non l'ho mai visto Non l'ho mai visto Buildato Mai Mai Magari ora Cos'è l'hanno messa Come build patting Qualcosa Ok Due long sword All'interno del build pat Costa pochetti di più E ti dà un po' di più Attacco fisico Poi vedremo Degli oggetti In cui c'è L'hardbound axe Come componente Per ora Non costasse così tanto Ci sono gli oggetti modificati Tranquilli L'immortal shield bow Adesso non è più Un oggetto mitico Ma un oggetto Leggendario L'immortal shield bow Non è più mitico Ma è leggendario Ti costa 3000 gold Invece che 3400 Costa 400 gold in meno Non si builda più Col non quiver Ma si builda col piccone Una clock of agility Uno scettro vampirico E tot gold Attacco fisico Uguale Proiettile critico Uguale Live seal Uguale Non ha più L'attack speed Passa da 20% Ti dà uno scudo Più piccolo Di prima E adesso Invece di darti Attacco fisico Bonus Nel momento In cui Si attiva Lo scudo Ottieni Velocità d'attacco C'è da notare una cosa Lo scudo Della lifeline Dell'immortal shield bow Comincia a scalare Dal livello 11 Quindi non prendetelo Come primo oggetto Perché questo item È concepito Per essere un secondo O terzo oggetto Addirittura Non come primo È uno scudo Di merda In early game Grazie Lapo Grazie Lapo Per questi consigli Fate un applauso Per favore A questa persona Incredibile Che dà consigli Come Pensa veramente Che qualcuno Guardi i video Pensa veramente Che qualcuno Guardi i suoi video È straordinario È straordinario È straordinario E continua A dare consigli Ma neanche i tuoi genitori Ti guardano i video Riguardo io Perché così Mi diverto un po' Straordinario Signori Straordinario Inizio a volerli bene Allapo Inizio a volerli bene Per davvero Game Non compratelo in early Grazie Grazie Non segno Ragazzi Mi siete segnati Il consiglio Questo è quando Adesso È una build Reattiva Per specifiche situazioni In cui Dopo aver preso Il tuo oggetto chiave Tu hai bisogno Di sopravvivere Contro un assassino Ma lo puoi inserire In qualsiasi build Incredibile Sono campioni Che sono lì Che si stanno sfregando Le manine Dicendo Come Draven Prima Fai la lista Dei campioni Draven Cose del genere Capiti che voglio Ogni item Tanto spari Draven I GDG Han vinto Mi sto segando Ragazzi Tanto ogni item Terenas dirà Draven Così sicuro L'infinity edge Hello Il caro oggetto mitico Nuovo È letteralmente Lo stesso oggetto Cioè No joke Tu guardi È la stessa stat line L'unica differenza È che puoi prenderlo Come primo item Ora Adesso Se tu vuoi prenderti In finito edge Che penso Forse Caitlyn Jean Draven Basta con sto Draven Basta Basta con sto Draven Di merda Poi prendertelo come primo item Si attiva subito La passiva Del danno In più Non c'è più La vecchia passiva Che deve avere Il 40% Di No no Fin da subito Funziona E Per forza Perché comunque Non c'è Credo L'attack speed Non lo fai Come primo item Comunque credo No Il successivo Ti da 5 di ad in più Buona modifica È tipo Semplice L'impatto È immediato Da capire Volete più danno Per me non lo fanno In finiti edge Bella Buona giornata Basate su autoattacchi In finiti edge Se invece Non ti basi Sulle autoattacchi C'è altro Che lo vedremo dopo E legge Finality Che doveva essere Moltenedge La versione vecchia Era la Moltenedge È meglio Edge of Finality Bellissimo Ma che cazzo Era Moltenedge Edge of Finality Bellissimo Il miglior cambiamento Che ho visto Finora Grazie Riot Edge of Finality Finality Bellissimo Bellissimo L'edge of Finality Salva la patch Mi sta tornando A voglia di giocare Mi sta tornando a voglia Potenziale L'infiniti edge Quindi Edge of Finality Chiunque abbia deciso Sai cosa Mettiamo questo È proprio stronzo Ma vabbè Ti dà 100 di addi Invece che I 70 canonici di prima La Kirchish Fermi Riot Sedite Mi avete rotto il cazzo Perché vi flammo Fermi 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 Chi ha messo Avete sentito Lapo Avete sentito Lapo Chi ha messo Ora Voglio che andate a casa di Lapo Come avete fatto con me Perché vi ha insultato Chi ha messo è stronzo Quindi vi ha dato degli stronzi Riot Guarda che vitritor Se non lo fate eh Antonio Shard Questa è stata modificata E adesso invece di darti Velocità d'attacco Ti dà attacco fisico Quindi Ti dà 15 di addi Invece che 15 di attacque speed Adesso Il colpo energizzato Non ti dà 80 da animalici bonus Ma 60 da animalici bonus Perché vedrete dopo il perché Perché ci sono tanti oggetti Col Kirchish Che si buildano E sono belli pericolosi La Kraken Slayer Adesso è un oggetto leggendario Mi ha fatto paura ragazzi Lapo Con questa introduzione Il colpo energizzato Non ti dà 80 da animalici bonus Ma 60 da animalici bonus Perché vedrete dopo il perché Perché ci sono tanti oggetti Col Kirchish Che si buildano E sono belli pericolosi Ma è straordinario Straordinario Cristo Dio Straordinario Pericolosi signori Let's go La Kraken Slayer Adesso è un oggetto leggendario Lo voglio vedere Se siete campioni Che vogliono buildare un hit Vedi Twitch Vedi Kalista Vedi Varu Di un dire treman Perché non è un hit Eccetera 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 Vedi Anche Kindred In alcune situazioni Il Kraken Slayer È 90% dei casi L'oggetto che andrete a prendere Per primo Perché Adesso che costa 3000 gold E anche un buon build path Con non quiver Il recurve bow E 400 gold Hai tutto ciò di cui hai bisogno Per avere una buona build on hit E buona faccia di attack speed Ha senso Ok Perdi 25 di ad Ma è normale Perché Perché hai perso 400 gold Di costo E quindi devi abbassare Qualcosa a qualche parte Perdi 25 di Ottieni 5% di attack speed E ora come funziona La passiva del Kraken Slayer Non ti dà più danno puro Naturalmente Ma ogni terzo attacco Applica 20 danni Più 60% di totale Più 45% Di app totale Come danno In più Danno magico Bonus in più Attivazioni successive Sullo stesso bersaglio Entro 6 secondi Aumenta del danno Fino Del 50% Fino ad un massimo Del 100% Il che vuol dire Che può arrivare a essere Fino a un massimo Di 40 danni base Più 120% di totale E 90% Quindi è più forte Di prima Magico che tu hai È veramente forte Come item Costa di meno È più forte Senti Sentite Senti Sì Riot È più forte Di prima Costa di meno E c'ha il big patting Con la range blade Senti È più forte Di prima L'item Iniziale È veramente Tanto forte È Pretty fucking insane Come spike Crackenslayer E rage blade Insieme Sono fortissimi Già Crackenslayer E runan Sono fortissimi Crackenslayer Rage blade E runan Sono busted Nell'anno Secondo me Vedrete All'inizio Tante persone Non usare Questa build Poi Usiamo questa Fermi Fermi Ragazzi Usiamo questa build Usiamo Crackenslayer L'ha detto l'appo Voglio ascoltare Voglio dire l'epì Grazie all'appo Crackenslayer Rage blade Runan Dopo la provo Istantaneamente Sono trash Instant Abituiranno E si renderanno conto Buon dio Che schifo È troppo forte Andiamo avanti La mercurial Ottiene 10 di magic resist In più Giusto per non essere Ignorata del tutto Insignificante Mortal reminder Riceve 5 di adi In più Giusto per non essere Significante Visto che L'ldr Non essere insignificante Diventare veramente Tanto danno L'armor pen Di passiva All'altro oggetto Giusto Che cazzo ne frega Baffiamo anche l'item Che dà già L'armor pen Forti saluti Lord Dominic Li vedremo fra poco Le navori Diventano un oggetto mitico Quindi puoi buildarle In esclusiva Questo qua Se prendi questo Non puoi prendere Infinity Edge O la Galeforce O la Rageblade Adesso La quantità di statistica È sempre la stessa Come l'Infinity Edge Non devi avere Il 40% di critico Per attivare Le tue passive Ovviamente Le tue abilità Fanno fino ad un massimo Di 20% in più Dipendentemente Da quanta probabilità Di critico tu hai Quindi A un singolo oggetto È 4% A due oggetti da critico Sono 8% A 3 12 A 4 16 A 5 20% Il matematico Lo statista Signori Che ci dà i numeri Grazie Sappiamo contare Telenas Grazie Non abbiamo 3 anni Anzi forse a 3 anni Sanno contare Quello che ha appena detto Non ci danno in più Perché molti avevano Ragionieri Signori Quando era uscito Il tooltip Di questo item La prossima mitica È che ti dà 5 di abilità Ace Che per me È un po' Sprecato Perché Il modo in cui funziona È che tu È strano che chi non conta nulla Sa contare La differenza di questo oggetto È che Tu quando ti attacchi Riduci il cooldown E le tue abilità Non supreme Del 12% Rimanente cooldown Ma se il cooldown È più piccolo Questo effetto È meno importante È un po' Il cane che si morde la coda Non è Non è incredibile Come item Però sono abbastanza sicuro Che ci saranno campioni Che ne abuseranno Brutalmente Più che altro Perché c'è un altro Bilanciamento dopo Che si energizza Molto bene con questo Forse è subito dopo No Subito dopo Il flicker È la versione potenziale Ti dà più AD E più ability Ace Perché non rompi il cazzo Al nome del flicker Senti Pezzo di merda Ora rompi i coglioni Al nome flicker Perché fa cagare Ma hai rotto il cazzo Edge of Finality Che cazzo è flicker Rompi il cazzo a flicker Che merda è flicker Qua c'entra Navori con flicker È figo il flicker Non costruisce più Getti mitici E basta Il Phantom Dancer Adesso si fa Con l'Hardbound Axe La Zial E 600 gold Ma il Phantom Dancer Io ho creato Phantom Dancer Ma il Phantom Dancer Ci ho sbagliato sempre Si fa con l'Hardbound Axe La Zial E 600 gold Ti dà 5% di attack speed In più Ma costa 200 gold in più Tutti gli oggetti di attack Infatti costano Dai 2800 gold in più Si dice Dancer No Non si dice Dancer Si dice Il Phantom Dancer Adesso Il Phantom Dancer Con la N Non costruisce più Getti mitici E basta Il Phantom Dancer Adesso Il Phantom Dancer Questo lo voglio Questo è straordinario Questo lo rubo Questo Questo Il Phantom Dancer Si Il Non Quiver Non costruisce più Getti mitici E basta Il Phantom Dancer Adesso Il Phantom Dancer Il Phantom Dancer Lo voglio The Phantom Dancer Iself Phantom Dancer Signori Da ora in avanti Sarà Phantom Dancer Rompi il cazzo Io rompo il cazzo A te Phantom Dancer Signori Da ora in avanti L'Armound Axe La Zial E 600 gold Ti dà 5% di attack speed In più Ma costa 200 gold in più Tutti gli oggetti di adicari Infatti costano Dai 2800 gold in più In su Quindi Non pensate che è tutto Rose e fiori Perché comunque vuol dire Che gli adicari Devono spendere più soldi Per avere Le statistiche che avevano prima O un pochino meglio Non pensatevi Che è tutto fantastico La Rage Knife Che adesso costa 1200 gold E non 800 Si fa con 2 daghe E 600 gold Ti dà 20% di attack speed Ti dà 20 danni magici on hit Che è veramente forte Come effetti in early game E ti dà 5% attack speed Fino a un massimo di 3 volte Che ti dà 15% di attack speed Quindi in totale 40% attack speed 20 magi che dà Maggi on hit È però L'equivalente Di tirare Tanti autoattacchi Con tanti danni magici Aggiuntivi Non sottovalutate Dato che Kogmo Comunque I tre basi Che te li tira Abbastanza facilmente Sboccando a 7000 di range Con la W W Mi viene in mente Un champion a cazzo Eh Un champion a cazzo Questa cosa Soprattutto in early game Dove la gente Non ha magic resist Quindi Nice Grosso buff Per gli ad carry Il rapid fire cannon Che si sono resi conto Regà È un cazzo di meme Sto item Si può usare Una manciata di volti In una manciata di situazioni Cosa fanno Aumentano il costo Di 500 WTF Mettono Dell'attacco fisico Su questo item 30 di ad Non godo Ritucano un attack speed Da 35% A 15% E quindi Tutti i pen sono Ok Siete impazziti Per quale motivo Hai il 7% Di moment speed Il punto è che adesso Avere questo attacco fisico In più Ti rende l'oggetto Uno spike intermedio Che ti permette di Arrivare A pareggiare Quelli che erano Le curve di potere Degli altri tiratori Che è un modo Molto complicato Per dire Sto pensando ragazzi Perché vedo Che stanno allevando L'attack speed Comunque da un po' di roba E la stanno aggiungendo Da altre parti E stanno aumentando L'AD E stanno aumentando L'attack speed Su altre cagate Se non sbaglio E stanno aumentando Un botto di AD Su le cose Rimani indietro Se prendi Rapid fire cannon Cioè È una buona cosa Oltre al fatto Che hanno aumentato Anche i danni Da 120 flat A 60 140 Che scalano Sui livelli E a tutto tondo Una grossa modifica Che aiuta L'item a essere Più buildabile Più spesso Piuttosto che essere Di nicchia Adesso è un C'è una nicchia Ma è forte Non lo so Non è una nicchia Ma è ok Spiegata molto Alla Bah là Che va bene Mettiamola così L'arco ricurvo Che adesso costa Soltanto 700 gold Si builda con Una singola daga E 400 gold 300 gold In meno 15% Non più 25 Ma adesso ti dà 15 danni magici Non dannifici Ma magici A questo modo Più ingegnate Magiche Fin da subito E un pochino Più prezzo Un costo più accessibile In meno Carino Soprattutto perché Builda in una serie Di oggetti Come ad esempio L'uragano di runan L'uragano di runan L'uragano di runan Stattento ragazzi Perché l'uragano di runan Sapete benissimo Che non attacca Solo una persona Non attacca Una di persona Ne attacca Altre due Si divide in tre Giusto un basic lì E due basic così Se non sbaglio Giusto? Bene Una zial E mille gold Perdi il 5% Attack speed Costa 200 gold in più Ma adesso Fai 30 danni Magician hit Immediatamente Scala col 50% Di totale Non 40% Di totale I proietti laterali E adesso Se non trova Dei campioni Ti cerca Dei minion vicini Che non è una roba Da poco per il runan Non vuol dire Potenziare anche Cos'è L'intelligenza artificiale Sopra Cerca i minion Cioè L'item Cerca Da solo Che cazzo Vuol dire Che cazzo Vuol dire L'item Cerca Windows Fury Cerca I minion In range Se non ci sono i campioni Vuol dire Che non è più davanti Così Ma fa così E poi Si Si gira Cazzo 5% in meno E mi aggiungono 30 Magician hit 10% in più E sta cagata 200 gold No Questa roba qua Deve costare 3000 Arriviamo Al campione Degli item Che questo qua È uno di quelli Che È il più preoccupante Forse Come il proprio aspetto Secondo C'è la range Che è rotta Sta roba qua È rotta Ci sono 2000 robe rotte Che vuol dire Finalmente L'arriva questo item Qua è il più preoccupante Aspetta un attimo È una gag È di lapo È una gag Signore È una gag È una gag Perché è buildabile da tutti Cioè non è un Ah è situazionale No 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 Questo è un item Che potrebbe buildare Letteramente chiunque Chiunque In qualsiasi build Build da crit Build on hit Qualsiasi build Perché No joke 3000 gold costa Si builda con Un quiver Una clock of agility E una Kear case shard Che ricordiamo Ti dà attacco fisico Adesso la kear case 45 di ad 25% di attack speed 20% di crit chance Perfetto Già qual è buono E come funziona la passiva I tuoi attacchi energizzati Fanno un fulmine a catena Che fa Da 60 a 170 danni Più il 50% Del potere magico Non è Una cosa che spingerà Campioni a P A buildarlo Magari Kyle Katarina Basta Così Così No Magari Kyle Katarina Detti Proprio I due campioni Inutili Solo Che io Proprio Io Così Magari Kyle Katarina Così A cazzo Cioè Solo Che io Già Non mi fanno Muovere Cioè Già Magari Kyle Katarina Chi se ne Nessun altro Perché agli altri maghi Non gliene interessa Un cazzo Della attack speed Escludendo una manciata Di eccezioni Che comunque A buildare questo Non ne vale la pena Per loro Queste attacchi energizzati Colpiscono a 6 a 12 Per cialgi E si concatenano A 600 di range Ogni volta che fanno danno E fanno il 120% Il danno Bonus Sui minion Questo è fatto apposta Per wave clear Ed è qui la mia preoccupazione Questo item È letteralmente un Ah C'è una wave di minion Ok Adesso non c'è più Una wave Cosa chiedevi una cosa La Nashor Tooth esiste ancora? Il dente di Nashor esiste ancora? Ok Perché? Wave di minion Quindi chi impedisce Un qualsiasi campione Che è rimasto indietro Di prendere questo oggetto E continuare a wave clear All'infinito? Io spero che lo nerfino Il prima possibile Wave clear sui minion Perché è una delle cose Più Terrificanti di sempre Questa possibilità Mi terrorizza Non la voglio vedere All'interno di League of Legends Per favore E grazie Ma signore e signori Vedete Drastico Fammi risentire All'infinito Io spero che lo nerfino Il prima possibile Il wave clear sui minion Perché è una delle cose Più Terrificanti di sempre Il wave clear sui minion Speriamo signori Che nerfino Il wave clear sui minion Ragazzi Straordinario 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 Non è che devono nerfarlo Perché clearano i champion Con questo item qui Con Katarina Con Kyle Che fanno due robe E one shottano La cosa preoccupante È il wave clear sui minion Speriamo venga nerfato Speriamo venga nerfato La clear La wave clear sui minion È troppo rotto Ti romperei io qualcosa La possibilità mi terrorizza Non la voglio vedere All'interno di League of Legends Terrorizzato ragazzi Dal clearare i minion Troppo in fretta Come se non clearassero Già i minion Con una spell Quei champion di merda Che la builderanno Non clearano i minion Con due basic in più Un quarto di secondi in più Il clear della static Signori Il clear della static Incredibile Non è che clearano i campioni Con un basic Con i fulmini che one shottano Il clear che cleara i minion Straordinario Ore e grazie Ma signore e signori Avete mai visto un morto Risorgere dalla cenere? Ecco Lo Storm Razor Lo Storm Razor E finalmente Hanno deciso Di fargli qualcosa Di buono Costa 3000 gold Adesso si builda Con un quiver Una clock of agility E una shard Di clear case Più 400 gold Ti dà 55 Di attacco fisico Il 15% Di attack speed E per 20% Come prima Ma adesso Adesso Il tuo attacco energizzato Fa 25 anni base Più il 65% Di ad Più il 54% Del potere magico bonus Questo da L'auto attacco potenziato Fa l'anno magico E ti dà il 45% Di moment speed Per un secondo È come avere un piede lesto Che ti dà Moment speed E non sustain Non ti dà Magico bonus Questo da L'auto attacco potenziato Fa l'anno magico E ti dà il 45% Di moment speed Per un secondo È come avere un piede lesto Che ti dà Moment speed E non sustain Quindi un tizio Ti può venire a dare Un qualcosa Un basic O quello che è Per poi scappare via Perché Usain Bolt Cioè Mi spiegate Allora Ragazzi Io Non so se giocherò Cioè Non credo di giocare più Cioè Con tutto il rispetto Ma È tutto anti 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 playmaker Sta roba qua Cioè Cambia il gioco Cambia il gioco Allora I mage Non posso più giocarli I mage Non posso più giocarli Perché Il costo degli item È ridotto Per quanto riguarda Il support Per quanto riguarda Gli ad carry È tutto baffato Il mage C'ha il primo item Che costa 800 gold in più 900 gold in più Degli altri Come fa ad essere meta Come fanno a pensare Che non cambi il meta Support Sta roba Com'è possibile Cosa devo fare Cioè Ogni roba è più veloce Più more speed Più Serve il position Imperfetto Alla di carry Perché è one tappa Come faccio a giocare Playmaking Se gioco playmaker Vengo sciolto Perché è tutto baffato O mi baffano Tutte le resistenze Di tutti i playmaker O qual è il playmaker Leona e Alistar Perché hanno il danno ridotto Quello devo fare Mi one tappano Brom Posso capire Brom Posso capire Taric Posso capire Brom Poi Brom Perché ha la E Brom posso dirvi Che può essere Già Brom Può essere Brom può essere Clamoroso Brom può dirvi Posso già dirvi Che può essere Clamoroso Non ti rallenta più L'avversario Ma puoi kaitare meglio Campioni come Kaylee Campioni come Jean Sono felici In estasi Per questo Potrebbero tranquillamente Prendere Stormraiser Primo oggetto Comodi Ma proprio Con tutta la tranquillità Del mondo Sarebbero felici Di prendere questo oggetto Di conseguenza Ti danno 4 batti Ti hanno un batti Per sbagli Te ne danno 4 Ti kaitano Al max range Perma Aglio Da crit È molto probabile Che la Stormraiser La prenderanno Molto più spesso E meno male Perché era un meme Questo oggetto Il Collector Gli danno 6 di letalità In più Giusto per dire Ragazzi Esiste ancora il Collector Sapete che Sappiamo che lo buildate Vi diamo una manina Così non vi sentite Così merdo Ad averlo preso Se ma date una mano Anche a noi Allora fermi Date una mano Anche agli altri Ecco Gli danno una mano A quelli che buildano Il Collector E la letalità Dai una mano Al support Playmaker Di merda Lai 50 gold in più Ma perde Una porzione Le sue statistiche In modo da poter essere Buildato più volte Anche a ripetizione Perché? Perché una passiva Zelus Non è più Una passiva unica E di conseguenza Un speed Passa a 7-5% Attack speed Da 18-15% Ma puoi buildarne Due insieme E poi buildarli In oggetti diversi Che è una di quelle Strane situazioni Sinergiche Che si possono andare a creare Su alcuni campioni Che possono abusare Di questi item Quindi non sottovalutatelo Fate i gravi E questo quando parli di Kerry Assassin Item Changes Riot ci ha ascoltato Non voglio più vedere Quella merda di Talon Non voglio più vedere Gli Assassin One-shotare Finalmente Dopo mesi E mesi Dopo anni Dopo anni Finalmente Ci hanno ascoltato E nerferanno Quelle merda Broken del cazzo Quindi alla fine Il buff Dell'Essence Reaver E nerferanno Quegli item Di merda Ah Cazzarola Peccato Sono un po' triste C'era un possibile buff All'Essence Reaver Hanno deciso Di non metterlo Andiamo agli oggetti Da assassini Grazie Oggetti da assassini La Duskblade La Duskblade Non ha più La passiva Che potenzia Il tuo prossimo T'attacco Contro un campione nemico Ogni 15 secondi Non ce l'ha più Non potenzia più No longer Empower your next basic Non dà più Danno aggiuntivo Succhiatemi il cazzo Bravi Rios Adesso cosa succede Le tue spell Fanno fino a un massimo Del 15% Di danno In più Dipendentemente Dalla vita Che manca Il tuo bersaglio Che cosa significa Significa che prendo Il cazzo Più in fretta Giusto Se il tuo avversario È basso Ragazzi Senti Non mi devi spiegare Cosa vuol dire Target Missing Health Lapo C'ho 40 anni Come sono arrivati A Pensare Che Come Come fa Essere un nerf Questo Come fa A non essere Il più grande buff Nella storia Degli assassin Talon T1 shot Non col basic Zed Se ti tiro Una combo Zed Non sono basic Sono spell Kiana Sono spell Ste robe 15% Di danno In più T1 shot Che cazzo Devi fare T1 shot Si salute Gli fai più male Fine Questo è quello Che dovete considerare Voi Molto buono Per molti assassini Soprattutto quelli Che si basano Su pattern Di arrasse iniziale Per poi Di andare di all in Che in early game È una cosa Che gli assassini Sono costretti A fare Perché non puoi Più fare 100 0 A meno che non sei 7 0 Ma che cazzo Senti Allora io Lapo Lo prendo a craniate Lapo Ti posso dare 2000 video Di Talon 1 10 One shot Te le posso dare 3000 di video 3000 3000 Te le posso dare 3000 3000 Video di merda L'assassino Non può One shot L'assassino Non può One shot Sì Non è 7 0 Ma che cazzo Stai a di Ma che cazzo Stai a di Ma a che gioco Giochi Cioè Ragazzi 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 Posso chiederlo A voi Cioè Secondo voi Gli assassini Sono bilanciati In solo Q Competitivo Non me ne frega Un cazzo Che non vengono giocati Perché c'è la La parola Che puoi Parlare Ma Gli assassini Sono bilanciati Non trollatemi Non trollatemi Che vi prendo a calci Nel culo Gli assassini Sono bilanciati Ecco Prodito Diretto avversario Non solo Adesso Quando Hanno baffato Sta roba Se non nerfano il resto Faccio alto F4 Un campione Tu lo vai a danneggiare Perché a Duskblade La conosciamo Per il soggetto Che ti rende invisibile No Adesso Grazie Non diventi più invisibile Non diventi più We're a champion Dammit Pass 3 second time To become invisible Non diventi più invisibile Non lo diventi Grazie Riot Adesso che cosa succede Se tu partecipi a un'uccisione Tu diventi Intargettabile Per i campioni Le strutture Possono ancora colpirti Ci mancherebbe altro Non distrugge i proiettili Che stanno arrivando E l'effetto si rompe Nel momento In cui Fai un'azione Che ti porterebbe fuori Dallo stealth E a 10 secondi Cooldown Stanno arrivando E l'effetto si rompe Nel momento In cui Fai un'azione Che ti porterebbe fuori Dallo stealth E a 10 secondi Cooldown Le strutture Possono ancora colpirti Questo effetto Non è paziente Tu diventi Intargettabile Per i campioni Le strutture Possono ancora colpirti Ma non è che Mirassere Ci manchere Cioè Doveva segnarmelo Riot Non è che Mirassere Ragazzi L'immisibilità Ve l'abbiamo tolta Diventate Intargettabili Ma Le torri Vi possono colpire Ancora Ci mancherebbe Altro Ci mancherebbe Altro Cos'è Anche questo Semplicemente Cosa dice Diventate Diventate Intargettabili Non diventate Più invisibili Diventate Intargettabili Quasi Tilto il doppio Cerco di mazzolare Il tizio Che mi corre in faccia E non posso fare un cazzo Al riguardo Posso chiedervi una cosa Ragazzi Posso chiedervi una cosa Se Mastery Kill a un tizio In ulti Con il Movie Speed Che ora è tutto Baffato Come lo fermo Mastery Intargettabile Invisibile Con la Q Intargettabile Che non posso farci un cazzo Come lo fermo Mastery Come lo fermo Questo effetto Non distruggi E si rompe Nel momento In cui Fai un'azione Che ti porterebbe fuori Dallo stealth E a 10 secondi Oh fermi Fermi Quindi all'interno Di un teamfight Non hai la possibilità Di concatenare Una serie di invisibilità Se becca un CC Si stoppa però Invisibilità Intergettabilità Multiple E per fortuna Che l'hanno messo Nel momento In cui colpisci qualcosa Esci dall'intergettabilità Perché prima non era così Ok Ok Questo Vi ha salvato Questo Riot Grazie Riot Almeno questo Se non c'era questo Spaccavo tutto Questo me lo rende Meglio È una merda Ma me lo rende meglio Nel primo giorno Non era per niente così Questa cosa Quindi Buon bilanciamento È una buona idea Anche per renderlo Senti Cosa vuol dire Dov'è il bilanciamento Quando mi inizi il video Con Andrà a sbilanciare tutto Ma Ma cosa vuol dire Cioè Hai iniziato il video Con la frase La patch Andrà a sbilanciare tutto Buon bilanciamento Della Dractar Che fa il triplo del danno Rispetto a prima E sei intargettabile Quando ammazzi un tizio Che cazzo vuol dire Che cazzo vuol dire Meno frustrante Allo elo questo item Quindi Good job Riot Questa è una Buona idea Se poi È indebole Verrà probabilmente Baffato Fatemi prendere Una galletta di riso Al cioccolato Ma che Ma che cazzo vuol dire Se poi è troppo Bad Verrà baffata Ma scusa Ma che cazzo Dici Meno frustrante Allo elo questo item Quindi Good job Riot Questa è una Buona idea Se poi È indebole Verrà probabilmente Baffato Come Ragazzi Scusate Allora Lapo 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 Fa più danno Di prima Fa più danno Di prima Se sei più Lo ti one shotta E per quanto riguarda La passione Nel stalker Non è peggio Di prima Cosa vuol dire Che è più Debole E deve venire Baffata Cioè basta leggere Basta leggere Fa più danno Di prima Gli assalsini Ti one shottano Con le spell Quindi ti burstano Il doppio Ti burstano Il doppio Fa meno danno A tua sorella Fa meno danno Ti burstano Il triplo Rispetto Agli altri items Fatone Fatone Sul trattore Testa di cazzo Non è Che se baffi Della roba Va baffata Anche il resto Perché non rendi Bilanciato Rendendo tutto Sbilanciato Rendi tutto Sbilanciato Quindi tutto Una merda Non è che Rendi sbilanciato Tutto Perché qualcos'altro È sbilanciato Non si crea così Il bilanciamento Non è che Se tutto è sbilanciato Allora io Ti arrivo e fa Dato che hai sbilanciato Tutto Non è lo sbilanciamento Stesso La bilancia Il bilanciamento Non funziona così Perché se mi arrivano Questo discorso I due figli di puttana Che fanno il cazzo Di video Di merda Io mi cazzo E poi sicuramente La Prowler Non è più un oggetto Milico Ma un oggetto Leggendario Perde 100 gol di costo 5 di AD 5 di BT 3 di letalità Tolgono L'attiva Che ti permette Di scattare Ma adesso È una passiva Dopo aver fatto Uno scatto Un blink Dopo essere uscito Dallo stealth Il tuo prossimo Autoattacco Fa un tot di danni E rallenta L'avversario Il 99% Per mezzo secondo Che era Il vecchio autoattacco Potenziato La Duskblade È un modo Per almeno dargli Un modo di esistere Come oggetto Per i campioni Che scattano Per darti Quel quid In più Serve il quid In più eh Serve il quid In più Serve il quid In più Ragazzi Serve il quid In più A questi campioni Che ora Ti rallenteranno Del 99% Ragazzi Kazix Non con questo oggetto Ma dato che lui Rallenta Del 99% E va già Invisibile E' una buona idea Anche per renderlo Meno frustrante Allo elo Questo item Good job Una passiva Dopo aver fatto Uno scatto Un blink Dopo essere uscito Dallo stealth Il tuo prossimo Autoattacco Fa un tot di danni E rallenta L'avversario Del 99% Per mezzo secondo Che era Il vecchio autoattacco Potenziato Dalla Duskblade È un modo Per almeno Dargli un modo Di esistere Come oggetto Per i campioni Che scattano Per darti Quel quid In più Ma che può Buildare Qualsiasi assassino Non sei costretto A buildarlo Se vuoi Avere mobilità L'appo sembra Quello del film Whale Il Brandon Fraser Comunque l'appo Ha dei fermi Immagini di merda Non c'è più Lo scatto È morto Fanculo Prima che qualcuno Strilli Ma perché gli adicari Sì e gli assassino Perché gli adicari Devono letteralmente Sacrificare Il loro oggetto mitico Un oggetto mitico Per poter fare Quello scatto Non possono accedere All'infinity edge O Alle navori O alla ragebleed Ora Brutto figlio di puttana Ora Ora Gli ultimi vent'anni Con quell'item di merda Ora Vieni Ora Prima Lo scatto Della adicari Ti permetteva comunque Di andare a fare danno Aveva un cooldown più alto Però c'era anche Un minacciamento di conseguenza Di tutti gli altri oggetti Diverso Che dava possibilità All'assassino O qualsiasi altro personaggio Di saltare in testa Un avversario Per l'assassino Il problema è che Gli assassini hanno Già tutti mobilità E tutti vorrebbero Dare più mobilità Sugli assassini Non tutti gli adicari Vogliono mobilità aggiuntiva Perché gli adicari Che hanno già mobilità Se ci sono Se ci sono Gli assassini Contro Gli adicari Vogliono Mobilità Aggiuntiva Proprio Per quello Che hai appena detto Il che Mi fa capire Che di lì Non capisce un cazzo Bene Perché è logica No? Bene Perfetto Diverso Che dava possibilità All'assassino O qualsiasi altro personaggio Di saltare in testa Un avversario Per l'assassino Il problema è che Gli assassini Hanno già tutti mobilità E tutti vorrebbero Dare più mobilità Sugli assassini Non tutti gli adicari Vogliono mobilità aggiuntiva E non c'entra con lì Non c'entra con lì Che è logica Perché gli adicari Che hanno già mobilità Nel kit Ce ne sono due in totale Che prendono la Galeforce Che sono Caitlyn Che ha la sua E Che gli dà mobilità Mobilità E Lucian Fine Tutti gli altri adicari Trattati in mobilità Se guardano la Galeforce Ridano in faccia Alla persona Che vuole buildarlo E dicono Sei coglione Ti meriti il silver Concludo Gli assassini Hanno già mobilità La Prowler Con quale ego? Signori Della persona Che ha inventato Il Phantom Dancer Eccolo qua Phantom Dancer La mobilità aggiuntiva Rendeva difficile Bilanciare L'intera categoria E molti assassini Sono stati nerfati Proprio perché Con la Prowler Diventavano troppo abusivi Andiamo avanti Il nuovo mitico Qual è per gli assassini? La Yomu Viene potenziale Ah c'è un nuovo mitico Pure Pure Li baffan tutto Mettiamoli il mitico nuovo Spero venga Ultra nerfato 100 gold in più Di costo 5 di AD 5 abilities in più Ti da Moonman Speedball Ho good vibes Sulla Yomu Farà cacare 100 gold in più Quando lo vai a attivare Da 25% E che cosa succede? 100 gold in più Meno AD Godo Sono così Meno AD Assassini Crepate Coglioni Ability Aest Meno No più No aspetta Più AD Aspetta che ho letto in me Aspetta che ho letto mai 100 gold in più Più AD Più Ability Aest Più Moonman Speed Che già sta roba qua È più Cioè ragazzi Già i 100 gold Che hanno aggiunto Sono superati Cioè già Allora ragazzi Se mi rendano la passiva Uguale a prima Cioè già questo è baffato Giusto? Arriviamo a questo concetto Cioè Possiamo parlare di Con logica Con logica Con logica Ragazzi Con la logica Con la logica 100 gold in più 100 100 gold in più 100 gold in più 100 5 AD in più 5 abilità alte in più 5 Meno Speed in più Già lasciando così Con la passiva uguale È baffato E già è sbilanciato Per i gold Quindi mi aspetta Una passiva Pari Che non può essere Più forte Di quella che c'era prima Cioè Deola Nel momento Che tu sei In giro A correre Per la mappa Ottieni queste shard Spettrali Fino a un massimo Di 100 Un po' come la Deadman's Plate Per ogni stack Ottieni 0,4 Meno Speed Fino a un massimo Di 40 Quando sei fuori Combattimento Al massimo Dele stack Ottieni tra 8 e 20 Di letalità Molto forte Già questo Queste stack Si risettano 3 secondi Dopo aver fatto Danno a un Campione nemico Quando sei a Massime stack Out of combat Con letality Ditemi Ditemi Quel campione Per favore Ditemi Il campione Ragazzi Tutti insieme Per favore Ragazzi E questo Vi voglio Vi voglio far capire Vi voglio far capire Come funziona Vi prego Rioter Antonio Mi stai guardando Andrea Mi stai guardando Carlo Mi state guardando Vi voglio far capire Come funziona Se mi buffi il danno Capisco che Ho inventato mitico Quindi il buff Dei gold È giusto Anche se Questa roba qua È buffata Puoi buffarmi Un item In questo modo Che ti va a rendere Un ruolo Con dei campioni Troppo sbilanciati Perché Ekarim Ekarim È troppo Allora mi nerfi Ekarim In questa patch Va nerfato Ekarim Non che Dopo il cambiamento Della Yomu Vediamo quanto Ekarim è forte Bla 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 Perché la solo Q Viene rovinata E Ekarim Con sta roba Avrà il 70% 60% 60% In radio Non puoi fare Una roba così Non puoi farlo Perché la moon and speed A parte che ti one shotta Perché tutto è baffato E ti one shotta La moon and speed È troppo rotta In giungla È troppo rotta È troppo rotto Arrivare prima Invadere Rubare Andare via Clearing più veloce Di merda Perché arrivi prima Cambia tutto Cambia tutto Non è un baffino Solamente Del fatto che Fai più danno O arrivi più veloce Cambia tutto Il gioco Per il jungler E la gente Non ci capirà più Nulla del patting Del jungler Non saprà tenerlo a mente E verrà stompata Questa roba È fuori di testa Sono 40 Moon and speed È troppo Per champion Che già hanno Moon and speed E allora Me lo nerfi il campione Ma me lo nerfi ora Non me lo nerfi Alla prossima pace Quando la solo più La gente sarà frustata Dio porca Anche frustata Probabilmente Frustata Quindi tu perdi La tua letalità E la tua moon and speed Fuori combattimento È il momento In cui colpisci un campione Ogni volta Che tu prendi L'oggetto leggendario Campione Anche i campi In giungla però Non sono il campione Di merda Vabbè autocom Ben come È lui che è un coglione Ritira 7 di ad in più Ora Questo item È stupido Questo item Per Anche campioni Al di fuori La categoria Essassini È veramente Tanto forte Cira Aspettate chi prende Una iomo adesso Perché Che cazzo Già prima erano rotti Che cazzo Le rispettate Rispettate Cagati in mano Quando uno prende La iomo Non rispettate Non lo vede Come faccio Come faccio A dire che devo Giocare playmaking Che tutto Mi ha fatto In mia speed Come faccio Playmaking Chi devo essere Caria davvero Iomo Oh State Con queste cose State fomentando E state obbligando La gente A giocare Champions Senza meccaniche Lo vogliamo capire Che state rovinando Il mio ruolo Di merda Lo state rovinando Lo state rovinando Ragazzi Lo state buttando Completamente Nel cesso Ma state buttando Il ruolo della botte Buttando Sapporo Perché è veramente Tanto pericoloso Scusate Ma ho caldo La iomo Viene potenziata Nella versione di orn Con più attacco fisico Più ability Più letalità Fino a 26 Letalità Non male Ma non incredibile Quanto era il vecchio prowler E andiamo avanti Cioè Due solle cose Due O popol laser I mean One trick O vogliono O vogliono Più Più player Su Valorant Per forza Per forza Avanti Gli oggetti da supporto Gli oggetti da supporto Sono stati modificati Anch'essi Perché? Perché molti Enchantment Molti Tank support Non erano Effettivamente giocabili O molto divertenti Da giocare Bravo 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 Fermi Che la smartphone Fa io Fermi Fermi Che abbiamo giudicato male Fermi Gli oggetti da supporto Gli oggetti da supporto Sono stati modificati Anch'essi Perché? Perché molti Enchantment Molti Tank support Non erano Effettivamente giocabili O molto divertenti Da giocare Perché? Perché avevi Un build Path fisso Prefissato E potevi prendere Al massimo Un item Oltre al tuo oggetto Da supporto Canonico Bravo Non era proprio divertente Ora ti faccio una domanda Però Lapo Qua mi hai specificato Mi hai specificato I tank Quindi Spero Che ci siano Cambiamenti In negativo Per quanto riguarda Gli enchanter utility Perché se mi vanno A buffare Gli utility enchanter Esplodo Avevo già visto Della monstone Quindi so già Che un item È buffato Voglio che gli item Da tank Vengano Overbuffati Overbuffati Over Overbuffati Over Decidono di Ampliare Gli oggetti Che possono comprare Come Abbassando i costi Degli oggetti Che già comprano E allineando le stats Ovviamente Ai costi Che Hanno effettivamente Questi oggetti Ok Però Mi hai specificato Tank Quindi Ma io so già Che l'hanno fatto Anche per quelli Da utility Giusto? Bene Supporto Per essere sani Acquistabili Più spesso Dai supporti spesso Te stessi La maschera abissale È il primo oggetto Che viene modificato Adesso si builda Con una kindle gem E un negatron Costa 600 gold in meno Ti dà 250 hp in meno Ti dà 60 di magic resist Invece che 40 E questo Orfodio Errore molto grave Sto d'accordo La parte di riot La passiva è la stessa identica La stessa identica Cioè Dipendentemente da quanti hp tu hai Ottieni Vai a ridurre la resistenza magica E i tuoi avversari Fino a un massimo di 25 Ottieni 9 resistenza magica Per ogni nemico maledetto Il che vuol dire che In totale Tu puoi ottenere Fino a 105 di magic resist Per 2400 gold E ottenere una buona quantità di hp E' broken Serio L'abyssal mask A prescindere dal tank E' tipo Insanely good Che sia Però Eh Il punto è che è situazionale Però in quella situazione E' broken E' situazionale Ma in quella situazione E' broken Cioè è troppo forte Questo è troppo Questo ve lo dico già Che è troppo forte Non ha senso O deve costare 300 gold in più Ma non sarebbe più fattibile Per il support O mi levi Magic resist E me la metti a 40 Forse addirittura nerfata Forse anche a 30 Tank support Che sia tank jungler Che sia tank top lane Quindi No 40 va bene Consideratelo se siete top laner E' veramente actually good Sì questo è un cazzo Va bene anche in top Però Per i tank support Che vogliono amplificare i danni Dei propri alleati Che fanno danno magico Nice Ottimo build Ottimo build questa Inseritela nelle vostre opzioni E possibilità L'harden sensor Qua vado veloce Perché molti di questi oggetti Sono super basic Le modifiche Che cosa vanno a fare Riducono il costo Vanno a abbassare Statistiche di conseguenza E vanno magari A aggiungere qualcosa di più Ad esempio L'harden sensor Ora che ha un etherwisp Al suo interno Gli mettono 5% In moment speed Mettiamo In qualsiasi cosa Quindi non puoi contare Non puoi avere il dato in mano Di quanto sia worth in gold La mia speed Potenziano leggeramente L'effetto della velocità Attacco E del danno magico Nitto Che mi preoccupa Perché questo è tipo Ehi questi Mi ricordano molto L'harden sensor Vecchio 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 No Non fate Questo mi preoccupa un pochino Però Speriamo bene Non costa un cazzo Speriamo bene Andiamo avanti Il chaliso Cioè è il tizio che scrive Guarda che Non capiscono un cazzo Cioè mi prendono per il culo Questo mi preoccupa We are putting more power Into the passive Andiamo and speeding To hard and center So it's here To keep up With the teammates You'll be enhancing Vain Spotting Just got a little bit easier Vain eh Lo spot per Vain Adesso è più facile Per Vain Brutti pezzi di merda Per Vain Per Vain Per Vain Per Vain ragazzi È diventato più facile Grazie all'harden sensor Vain Adesso è broken Non per tutti Per Vain Mi raccomando Signori Se avete Vain Hard and center Primo oggetto Eh Mi preoccupa un pochino Voglio sapere Cioè Voglio Mettete uno Che ne capisce Mettete Mettete pro players A gestire le pace Mettete pro players Non mettete Pi pi Merda Non mettete Pupu laser Speriamo bene Speriamo bene Andiamo Il Chalice of Blessing Che adesso ti va a dare È un oggetto nuovo Intermedio in più Costa 900 gold Si fa con un ruby crystal Un fairy charm Ti dà 200 HP 50% di base Mana regen bonus E adesso ottieni L3 gen in più Per ogni ban Mana regen bonus In più Sai cosa rivolgo io Riot Sai cosa rivolgo io Sapete cosa rivolgo io L'Heart of Gold La philosopher stone E l'altro item di merda Che mi sfugge Che dava gold per second Si buildavano tutti Ve la ricordate Earth of Gold Philo Loverstone Un'altra roba Che ti davano i gold per second Ti davano i gold per second Ragazzi Questa roba qua Era clamorosa Con le rune gold per second Voglio voi Ricordate le rune gold per second Ve le ricordate Le rune gold per second La monetina gialla era Vi ricordate Il coin Vi ricordate C'era la build Che buildavi tutte e tre E mettevi le rune gold per second Eri ricco Eri briatore Eri solo iot Che si facesse cercare il cazzo Dalla tizza Che mi sfugge La Gregoraci Eri ricco Eri lo sceico Andavi in giro Devo andare a guardare in giro Per tutta la mappa Quando erano illimitate Eri faker Ora sei un fallito Di merda Che non fa un cazzo Prima eri così Eri faker così Ora sei un coglione di merda Ok Bella Ti puoi rigenerare più HP Se ti hai abbastanza Mana Legend Tanta roba Il Chemtech Putrefier Abbassano il costo di 300 gold Allineano le statistiche Di conseguenza Vi chiedo una cosa Non buildate mai Il Chemtech Putrefier Siete supporti Attualmente Come funziona la passiva Di questo Merda Volevo chiamarlo item Ma mi viene il colato di vomita Facca gara Tu devi fare danno al campione Nemico Punto Non funziona Non c'è più la passiva Del tic Uno scudo Una cura Un alleato Confermo che fa cagare Ma l'ho già detto Chi fa questo item qua Non capisce un cazzo Dopo l'ultimo nerf Chi builda sta roba Non capisce niente Buildate Redemption Secondo oggetto ragazzi Per procarlo Devi fare danno tu Gli utility enchanter Non sanno fare danno Era forte prima E vedrete che verrà Ristabilita questa meccanica Tra un paio di patch Verrà ristabilita questa meccanica Perché Ehi Ve lo dico proprio Semplicemente Ve lo dico già adesso Ho visto il buffo al monston Vi chiedo una cosa Se mi buffi il sustain Nel momento in cui Sei mesi fa Hai tolto Hai nerfato questa merda qua Il grievance wand in generale Vi sembra sensato Andare a buffare L'ealing e il sustain Mi sembra sensato Nerfare il grievance wand La cosa che counter Il sustain E poi buffare il sustain Vi sembra bilanciato Bene Cioè lui applica le ferite gravi Io Io lo dico Loro che ci lavorano Tutti i giorni Non lo sanno Lo dico io Io lo dico Loro ci lavorano Sono pagati milioni Per fare ste cagate Quella passiva Quindi Questo item Stat wise E functionality wise È una merda Non buildatelo Se lo buildate siete scarsi Se qualcuno nel vostro team Vi dice Perché non hai fatto l'oggetto Non hai fatto l'oggetto A ferite gravi Vi dici Stai zitto E buildalo tu Perché questo item Fa schifo No joke È un meme Quanto poco riduce le cure È un meme La statistica La line stat che ha Stat line che ha Non fatelo Non fatevi del male Avete già pochi soldi Siete poveri Non penso che Se tu sei povero E hai 400 euro Per due mesi Di mangiare Compri merda Che cazzo sta sedendo Alla po signori Dov'è il volto Di Riot Italia Che conosci Ora sto morendo Ma scusa Ma mi hai flammato Scusami Hai flammato Ma ha flammato Tutto il mondo Siete l'operoe Ma dai Flammo io Sono un bullo Di merda Flammo io Sono un bullo Ha flammato Tutti Vado a piangere Sharon Sharon Gli sfacco i denti Sto pezzo di merda Sharon Stai tranquilla Stai qua con noi Che ti vogliamo bene Ho mai detto roba negativa Io Fregateli Sto fallito Guardalo Guardalo Va in giro In maniche corte In 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 Ma lascialo stare Sto coglione Dai Ora signori Ascoltate Quello che ha detto Lapo Doveva essere detto In maniera diversa Doveva essere detto In maniera diversa Ragazzi L'item fa cagare È inutile E chi lo builda È uno sfigato Coglione fallito Perché ragazzi Se tu hai 450 euro al mese Non butti Non butti Dei soldi in merda Non 400 Lapo del cazzo Perché la soglia di povertà Non è 400 euro È ben più alta In Italia Coglione Ti compri robe Per poter mangiare Il più possibile Più spesso Klein che ha Non fatelo Non fatevi del male Avete già pochi soldi Siete poveri Non penso che Se tu sei povero Ma scusa Ho aumentato Ma ho detto Quello che ha detto lui Ma ho aumentato Di 50 euro Senti Ho detto la cosa Che ha detto lui Ho aumentato Di 50 euro La soglia di povertà Quindi vi ho detto Semplicemente Che l'Italia fa cagare Ma pezzo di merda L'ho buildato prima Sharon Ma l'ha detto lui Stavi andando via Lo dico io Mi flammi Insensibile E hai 400 euro Per due mesi Di mangiare Compri merda Ti compri robe Per poter mangiare Il più possibile Il più spesso Invece L'Apple Signore Invece Che ha detto Questo è un È successo Non per mangiare Una volta bene Il resto Mangi segatura Neanche vale la pena Perché c'è una situazione Su un milione In cui ne vale la pena Questo item No Non c'è Non buildatelo No non c'è neanche Quella sul milione Non c'è Grazie Buona giornata Gli Echi di Elia Questo è un nuovo oggetto Mitico da Enchanter È stato concepito Per essere Un vecchio Ateens Anoli Grail Per chi giocava A League of Legends Al tempo Il vecchio Quello rosso Costa 2300 gold Con il sangue dentro Anche particolarmente costoso Kai c'è l'armonia È un componente Qua ce l'ho detto? League of Legends Al tempo Il vecchio Graal di Atene Costa 2300 gold Quindi anche particolarmente costoso Cosa vuol dire particolarmente costoso? Cosa vuol dire particolarmente costoso? Tutti gli oggetti Da support Solo fino ad oggi Erano 2300 gold O 2400 Che vuol dire costa assai? Cosa vuol dire costa assai? Non sono euro 2000 gold Li fai in 7-8 minuti No 10 No 10 Per essere niente da support Gli altri item Costano uguale Costano uguale E le statistiche Sono broken Anzi Se vado a vedere L'Holly Grail Scommettiamo Che costava di più L'Holly Grail Che appena ha detto Una stronzata? Vogliamo scommettere? Andiamo a vedere L'Atene Olly Grail Bene 2600 costava il Grail Quanto costava? Date a vedere voi Quanto costava il Grail E scrivetemi 2600 Bene Costa 300 in meno Del Grail Kai c'è l'armonia È un componente Un chiave Che è questo qua Charis of Blessing L'hanno chiamato per sbaglio Charis of Harmony Per farvi capire Quanto rimanda Al vecchio Grail di Atene Un Bad Norlas Mirror 400 gold Ti dà 30p 200kp ABT Ace Base Mana Legend E come funziona? Daneggiando un campione nemico Ottieni un frammento di anima Fino a un massimo di 2 Basta autoattaccare O tirare delle spell Per fare Ottenere un frammento di anima Curare O scudare Un tuo alleato Consuma un frammento di anima Rigenera HP all'alleato E fa danni magici Sul campione Nemico Più vicino Ottieni 3 Di potere magico Per ogni 25% Di Base Mana Legend Quindi Super strong Questa cosa Perché tutti gli oggetti Da Enchanter Hanno Mana Legend All'interno dell'oggetto Quindi Ottieni potere magico Gratis Flat E ti dà 5 di Ability Ace Per ogni oggetto Leggendare successivo E questa è una cosa Che poi vedremo Anche su altri oggetti Mitici da Enchanter Tutti adesso hanno la passiva Che ti dà Ability Ace Invece Come Come potenziamento Piuttosto che altro Sì Sì ma Detend the tank Detend the tank Dammi sto buff Dammi sto buff Dammelo Ragazzi Hanno buffato tutto Mi aspetto Che Leven Shroud Ne faccia il triplo Del danno Il triplo Il doppio Il doppio Del danno Se fai un CC Perché è 10 volte Più impossibile Hittare Una spell Dato che è più difficile Hittare le spell Perché tutta la Momea Speed D'hai baffato su chiunque Voglio 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 Che sia Baffato Adesso costa 200 gol Di Medo Perché vogliono Renderlo più approcciabile Ai tank e engager In generale Tutti i mitici Costeranno 2300 gol Per i support Giusto per dare Un modo più comodo Per starci dietro Adesso si builda Con un Life Well Pendant E un Magic Mentor Che adesso andiamo a vedere Che cos'è un Life Well Pendant Stessa quantità di statistiche Uguale Uguale Identica Tutto rimasto Identico Quindi Bella così E andiamo Proprio diritti avanti Non ho più Non riesco a parlare C'ho la pressione C'ho la pressione A 6000 Me l'hanno liquidato In In quanti Dieci secondi Cioè in dieci secondi Il primo item Da tank Ridotto di 200 Il costo E' tutto uguale E hanno pure Sbagliato a scrivere Iguale Identico Ci sono pure Sbagliati Identico Quindi Bella così Grazie Questo lo fanno apposta Perché sanno che guardano le bacce notte Lo fanno apposta L'imperial mandate Non è più un oggetto mitico Indovino Questo invece viene overbaffato Indovino È un oggetto leggendario Vai Infatti Costa in meno 100 gold in meno Ha più potere magico Ohi ragazzi Ohi Lo togliamo da mitico Fermi 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 Lo togliamo da mitico Riduciamo il costo E fa E a più in più Mi fate un applauso Per favore A Pupu Laser Cioè Di cosa stiamo parlando Di cosa stiamo parlando Di cosa stiamo parlando Di cosa stiamo parlando Cioè i playmaker sono morti I playmaker sono morti Maige Brand è finito Brand è andato Pike puoi giocarlo Perché ovviamente Magari assassino Così nell'oscurità Invisibilità e tutto Nulla da dire Gli engager playmaker Sono morti Sono morti Puoi vincere C'è in competitivo Allo spazio Certo che puoi giocare In competitivo I playmaker Perché il playmaker È forte in competitivo Perché ti dà chance Di fare roba Certamente In solo queue Chi gioca a playmaker È un coglione È un coglione Perché hanno baffato Tutti i danni Ragazzi Hanno baffato Il danno Di tutto E i playmaker Sono rimasti uguali E gli utility Sono baffati Ti one shottano Con gli item normali Non Cosa devo fare Più abiti Almeno la passiva Deve venir La passiva Deve far cagare Deve far cagare Deve Perché non esiste Che mi levi un item Mitico Me lo fai col star di meno Mi baffi la P Sei baffata la passiva Non gioco Questo ve lo dico Qui adesso Non mi vedrete più Giocare game Stasera Ti baffato Fortnite Adesso Ora Ora Cosa che non ha più C'era una cosa Che gli mancava Perdeva gli HP Ecco infatti Che cosa perde Non ha più HP Questo item Perché non l'hanno messo Mi tiltano Vabbè Pace Non ha più HP Questo item Quindi 55 di HP E 20 di T Si rimangono invariati La mano Il regime È variato Ma che te ne frega Allora ragazzi Allora Carlo Antonio Andrea Vi spiego Come funziona Dava HP Prima l'item Dava HP Prima l'oggetto È questo che ha detto Labbo Dava HP Ok Vi chiedo una cosa Vi prego Carlo Andrea Antonio Ascoltate Se una di carry Un assassino O un jungler Mi arriva sul support Che builda questo 200 HP in più Non fanno la differenza Vengo one shottato Vengo one shottato Lo stesso Non è che se mi nerfi Gli HP Me lo rendi bilanciato Non è così che funziona Gli HP Sul support Inchanter Non conta Nulla Non è mai Contato nulla Potete levare Tutti gli HP Dalli item Support Utility Tutti Non contano Gli HP Perché se ti prendono Vieni one shottato Lo stesso Cioè Mi sembra Di parlare Con gente Che di league Non ne capisce Nulla E sono loro A fare le pace Capite il mio punto di vista Vi prego invece di rompermi Per modo di dire Capite il punto di vista Di un pro player Vi prego Non sono qui a dire Cazzate solamente Per rompervi i coglioni Come fanno a pensare Quelli che stanno sopra di voi Che questo sia bilanciato Che questo sia giusto Com'è possibile Vabbè adesso pulisco la canna Che ci avrò sputato addosso Com'è possibile Pensare lucidamente Che questa cosa sia giusta Dai Riducono l'effetto Del fuoco coordinato Quindi meno slow E meno danno Quando vai a colpire un campione E l'alleato colpisce quel campione Tutto qua Ma fatemelo ascoltare Meno danno Per forza ragazzi È un verbaffato su tutto Non ha Cosa che non ha più C'era una cosa che gli mancava Perdeva gli HP Ecco infatti che cosa perde Non ha più HP questo item Perché non l'hanno messo Mi tiltano Vabbè pace Non ha più HP Questo item Quindi 55 di AP E 20 di TES Vangono invariati La mana regina Vangono invariato E riducono l'effetto Del fuoco coordinato Quindi meno slow E meno danno Quando vai a colpire un campione E l'alleato colpisce quel campione Tutto qua Sì ma Posso chiedervi una cosa ragazzi Non voglio E l'alleato colpisce quel campione Tutto qua Molto semplice Semplicemente Non è più un oggetto mitico E questo è quanto Che si può dire In mezzo In Night's Wow Come Vi prego Guarda Sto crollando in live Vi prego Baffatelo Vi prego Baffatelo Vi prego Meno abiti ace 25 di armor in più Però questo è molto comodo Soprattutto per la fase corsia Grazie Meno eltregen E la passiva Del sacrificio È leggermente più debole Perché danno Pre-miticazione Piuttosto che post-miticazione E quindi è di Allora Passiva Passiva nerfata Pre-mitigazione Invece di post Da qualche Dice lab Ok Meno eltregen Meno ability Aft Meno HP Ma Ehi 25 di armor 25 Quanti sono Quanto è 25 di armor in più Un basic in più Per sapere Quanto è 25 di armor Facciamo Due basic in più Adesso Ma dopo al buff Degli ad carry Quanti basic in più sono Dopo che sono stati Buffati gli ad carry Ve lo dico io Zero Perché hanno buffato L'armor pen Perché hanno buffato L'armor penetration E allora Tutte queste cose Che state facendo È semplicemente Aggiungere roba Che non serve a un cazzo Perché avete messo La passiva Dell'armor pen Sull'item di merda E ti dico Vi dico già una cosa Meno HP Nerfato Questo non serve a un cazzo Perché tutto il resto È buffato Quindi non serve Questo è nerfato Questo è nerfato Questo è nerfato L'item è over nerfato Farà cagare Bene Tipo Non il massimo È È una riduzione Infima Perché danno Premitigazione Semplicemente Quello Prima di Effettivamente Subire la riduzione Dall'armatura Magica Resist E così via Quindi Non è un Un nerf Ma è comunque Un Perché farlo Non è un nerf Cioè tutto Nerfato Cioè ragazzi Non è un nerf Non è un nerf Cosa vuol dire Non è un nerf Cioè Chi ha questo item Subisce più danno Quindi Quindi Il playmaker Cioè Guarda Chi fa il night vow Subisce più danno Chi fa il night vow Adesso subisce più danno E il danno è baffato Cioè Non me ne frega un cazzo Allora che mi è aumentato L'armor Se tanto l'item Mi fa subire più danno Ed è anche baffato Tutto il resto Io sto per Io sto per volare Signori Io sto per andare Tutto qua Il life well pennant Ecco finalmente Il componente Di cui parlavamo Prima Che vede Un costo di 1050 gold Con 150 HP 25 armor 5 abiti Ace È un oggetto Abbassato Questo è quello Che ho buildato prima Early game In laning phase Non mi piace Rispetto a quello Che c'era prima Perché questa 250 gold in più Quindi il back timing Fa cagare Perché la kinder Costava 800 gold 1050 per 5 ability Ace Succhiami il cazzo E 50 HP In meno Se riesci A dannare avanti Quindi se riesci A prendere una kill Perché lo arrubi In qualche modo Quest'item È molto forte Se mi riducono il costo Di 150 Ecco Ecco Eccola Eccola qui Già è una cosa più intelligente Di Riot Se mi riducono il costo Di 100 Di 150 E poi mi aumentano Il costo per chiudere L'oggetto Di 150 Già così è diverso Già così è diverso Fa stato comodo Come intermedio Non è malvagio Non è brutto Costa troppo Perché c'ha il back timing Che fa schifo 1050 è troppo Per un back timing È Un modo per permettere Lain in phase Se lo chiudi Comunque è forte In lane è molto forte Sto item Hai support tankosi Per avere un Un modo per scalare In fase di corsia E stare sopra a vivere Ecco Non mi viene la parola È quello che vuoi fare Con i support tankosi Chi non prende Chi Ma che cazzo vuol dire Che devo prendere Il support tankoso È il modo per sopravvivere È l'utility Che deve avere Il modo di sopravvivere Perché devo giocare Una roba Tankosa Per sopravvivere Perché c'è Quasi differenza Di macro Perché la vedo Sempre in modo diverso Perché Ma sono io Sbagliato Sono io Sbagliato Ditemelo voi Sto sbagliando io Onesti Sto sbagliando io Il support Playmaker tank Deve avere il modo Di sopravvivere Ma Ma ci mancherebbe Altro Ma non deve essere Dato dall'item È l'altro figlio di troia Che deve avere il modo Per sopravvivere Non posso averlo io Col support tank Il modo per sopravvivere Scusate ma è anche Mezzanotte e cinquanta Quando ho visto questo video Il Locket of the Enel Solari Vede il costo ridotto Di 200 gold Le statistiche Rimangono le stesse identiche Lo scudo Viene leggermente modificato Per essere un pochino Più forte Ci parla di 20 Mi fino a massimo Di 30 Di scudo In più Non Non tanto Di più Però Comunque Molto 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 Forte Questo item Ora il Locket è tipo Insanely good Per i tank support Questo oggetto è tipo Ma che sa di Ma Cosa 30 Di scudo in più Dove il danno è baffato È uguale È uguale Pezza di merda È uguale Pezza Guarda Non voglio insultarti Se tutto il resto È baffato Se mi metti 30 di scudo in più È uguale È uguale È uguale È uguale Eh ma costa 200 in meno Come tutto il resto Come tutto il resto Quindi è uguale È uguale Se non Nerfato Perché tutti I danni Sono baffati Perché Devo Tanta roba Il Mike Che adesso Vede la sua resistenza magica Ridotta totalmente A zero Infatti adesso Si fa Con un calice Dell'armonia E un forbidden idol Ti dà 250 HP Perché Da HP Light And utility And thunder Buono Ok Adesso Cosa succede Ottieni 25% Di base alt regen Come ma Così posso buildarlo Sui playmaker Bravi Riot Per ogni quantitativa Di mana regen bonus Buono E allora Mi togli sta merda Mi togli sta merda Me la togli Me la togli Perché sapete perché hanno tolto la difesa magica Hanno tolto la difesa magica Perché altrimenti sarebbe stato forte Sui playmaker Per questo hanno tolto sta roba E hanno messo i fottuti HP di merda Dipende dal calice Dell'armonia Rendendolo broken Nella situazione In cui devi Metterlo E giocarlo Per gli utility Enchanter Neanche io me lo ricordo Perché Calice dell'armonia Rega Dai Chiamatelo calice dell'armonia E basta Non prendiamoci in giro Per il resto È invariato Semplicemente Rialineate le Heal And shield power 1% in meno Cosa devo dire Grazie 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 Riot Grazie Riot È come prima Sei invulnerabile Ma le torri Possono ancora colpirti Stats Ragazzi Di avere 50 Magic resist Se gli utility Enchanter Non frega un cazzo Nessuno Perché vieni One shottato Dio porco Bene Pochino più HP Nella sua cura Quando vai a applicare Il cleanse Cioè La rimozione di tutti i crowd control Tutto uguale Però Avere 25 Eltre gen In base Al Every additional Mana rage Quindi dai un botto di Eltre gen Into HP in più La monster Renewer viene leggermente Reworkata Sono 200 gold In meno Per allineare Tutte le statistiche Poi di conseguenza Ma come funziona La nuova passiva La nuova passiva In meno Su monster Renewer Per allineare Tutte le statistiche No scusa Sono persa Una parte fondamentale Reworkata Sono 200 gold In meno Ancora più indietro 200 gold In meno Sulla monster Renewer Per allineare Per allineare Tutte le statistiche Quindi viene Nerfata 200 gold In meno Per allineare Le statistiche Dell'oggetto Se costa in meno Viene nerfata Allineare Questo è Allineare Questo vuol dire Allineare Bene Poi di conseguenza Ma come funziona La nuova passiva La nuova passiva Funziona Molto diversa Non hai più Un Ah il bersaglio Più basso di salute Viene curato di tot No Adesso Tutte le cure E tutti gli scudi Sugli alleati Concatenano Sull'alleato più vicino Escutendo te stesso Curano del 20 35% Più Oppure del 30 40% Se si parla di scudi Del valore originale Cioè Se tu curi di 100 Tu curi di 20 L'alleato vicino Fine Questo funziona Sulle cure multiple Vedi L'ulti Soraka Oppure sulla ulti Gianna Oppure su scudi Multipli come L'area di Karma O la W di Seraphine Spoiler Sì Funzionano E si concatenano Veramente bene E quindi cominciate A rimanere terrorizzati Da questa possibilità Cioè io vorrei avere la forza Vorrei avere la forza Di risultare ancora E infatti ce l'ho Cosa devo dire Cioè Come entro E ho vinto un game Con Alistar Prima Ma chi cazzo sono Ho vinto un game Con Alistella Prima Ho vinto un game Con Alistar Chi cazzo sono Dai Chi cazzo sono Chi cazzo sono Chi cazzo sono Io Dico solo questo Lo Starcaster Della versione potenziata Con le stati allineate Per un oggetto mitico Potenziato da Orn Ricordatevi I support sono Sempre i campioni Su cui buildate Gli oggetti mitici Per subito In solo Q Perché hanno Un guadagno Statistico stupido La Ray and Virtue Vede un costo abbassare Di 500 gold 50 HP Meno 10 HP Meno Anche l'effetto Della passiva Quello quando Tiri una suprema Vai a ottenere Vita bonus E curi Curi 8 HP Sì È ancora lì presente Anche la passiva mitica È un pochino più debole Tutto è stato riallineato Attorno al costo nuovo Per renderlo attraente Da buildare Da certi Tank support Che sono Un po' più gridi Questa è l'idea Carino Carino Mi sembra comunque È incredibile Cioè Questo pezzo di merda Si sta Si sta Si sta Con potenziamento In generale Cioè per quello che spendi Ne vale molto di più la pena Ora Perché questo vuol dire Per metterti Cioè 2700 gold Sono 500 gold in meno E allinei le statistiche A quello che è il costo Quindi Ok Ottengo un pochino di meno Per quello che spendo Sì Ma comunque spendo E ottengo un oggetto mitico E poi posso buildare Più velocemente Un altro item Quindi È un buff Per le solo lane E per la giungla Che buildano Questo item da tank Io vi dico ragazzi Questo item qua È molto forte Vi ricordate il periodo Dove ero Diamond 3 E ho detto Faccio il master Tryhard Ho giocato solo Trash Buildando solo Questo oggetto qua Il problema di questo oggetto Ragazzi È il costo Ora mi hanno nerfato Ovviamente il costo Costa comunque tanto Però È buono Se vai avanti Ragazzi Non è male Come oggetto In più Fate il conto Che comunque Ti dà Il sustain Giusto se non sbaglio Perché se ulti Trascendi e curi Gli compagni Blah 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 Non è brutto Bisogna Ci rifletto Questo item qua E Per gli enchant Per i tank support È tipo È ok Lo puoi buildare Ne vale la pena In alcuni casi La redenzione Il costo che non viene invariato Cioè adesso La build path Che è diverso Col caio C'è l'armonia Ti dà 250 HP Mettiamo di 50 HP La redenzione Così Buttiamo buff a caso L'L3 gen bonus Dipendentemente da quanto male Regenai Basta Questo è quanto Perché? Perché? Perché farlo? Per capire Perché mettere 50 di vita? L'L3 gen bonus Dipendentemente da quanto male Regenai Basta Questo è quanto La Shurelia Che viene abbassato Il costo Viene abbassate Le statistiche Per allinearsi Di conseguenza E ti dà Ability Ace Come te lo dà Ok Come te lo dà La cosa Da Moonstone adesso Che ti dà Ability Ace Come passiva mitica E così via Come dicevamo prima Tutti gli enchanter Support Gli enchanter item Mitici Hanno adesso Come passiva Ability Ace Bonus Ah non ci avevo Guarda Non ci avevo fatto caso Ora Tutti Grazie Labo Per continuare A aumentare Il mio star male Il voler spaccare tutto Tutti Gli item Utility Enchanter Di passiva Ora danno Mitica Quello che è Ora danno Quella merda Di Ability Ace La Staff Of Lowing Waters Anche questo Viene abbassato il costo E ti dà Moment Speed Ora E tutte le stati Che sono riallineate Attorno All'idea Di Straordinario Permettere di darti Un pochino di più Sublime In pratica Cosa hanno fatto Gli oggetti A supporto Sono tutti Ribilanciati Attorno al No Non sono bilanciati Quelli da tank Sono una merda Fanno schifo Bene Sono nerfati Quelli da tank Nerfati Nerfati E sono baffati Quelli da utility In un meta Dove l'utility È broken Perché gli ad carry Sono rotti E perché gli assassin One shottano Bene E meno statisticamente Abbassando le statistiche Puoi abbassare il costo E potenziare L'effetto passivo Non mi piace La Watchful Warzone Nuova Per nulla Fermi Questo non c'è Non c'è Ti dà Ti dà una serie Di statistiche Che sono ok Ma ora Puoi completarlo Soltanto Puoi comprarlo Soltanto Una volta che ho Completato la quest Supporto Uno E non si evolve Subito Nella versione Nella versione potenziata Poi E quindi è tipo Ok Alla fine hanno tenuto L'increase your stand World and control World placement Caps Ok L'hanno tenuto Quello Ok No perché su PBL L'avevano tolta Questa cosa Allora è ancora decent Actually è un grosso buff Perché ti dà più statistiche Che prima Costa 2300 gold Questo ci dà un'occhiata Come terzo item Però almeno Dici Eh Ok Nella versione evoluta È rimasto il fatto che Ti aumenta il cap Di lumi piazzabili Meno male Non è brutto Brava Riot Perché su PBL Non era così Ero partito A gamba tesa Con un opinione negativo Partirei A gamba tesa Con tutte e due Con tutte e due L'appo partirei Io a gamba tesa Stai tranquillo E ti dà un po' Più Ma prima non aveva Neanche l'effetto Dei lumi E del control Che potevi piazzare Ma fatemi lo z Era preoccupante Salvate la giornata Penso di zia che viene abbassato Il costo a 2.200 Ora diranno però Per riallineare Tutti gli oggetti Costano o 2.200 O 2.100 O 2.300 Che se guardi E fai una combinazione Di item Finisci per risparmiare Tra i 400 E i 500 gold In totale Su un'intera build Dipendentemente Da che cosa buildi Ovviamente Tutte le statistiche Sono riallineate Di conseguenza Andiamo avanti Sto parlando Sto parlando da 2 ore Sto parlando da 2 ore e mezza Del tuo video 2 ore e mezza E ho scelerato 20 volte più di te E sono ancora sano di mente E non mi sto lamentando Un uomo vero Divine Sunderer Viene nerfato Ci mancherebbe altro La cura di conseguenza È più bassa Fa meno danno percentuale Sulla vita massima Scala un pochino meglio Con la D di base Del campione Ma non ne vale comunque La pena È comunque meno cura E io sono così felice Fottiti Divine Sunderer Sei una merda Fottiti È tiltato Perché è un orn One trick Felicissimo di questo Grazie Riot Muori Divine Sunderer Andiamo avanti Col Fimbulwinter Che è A me il Divine Sunderer Non ha mai fatto un cazzo Ragazzi Lincenamente Cioè Cosa vi ha fatto Il Divine Sunderer Ma quando mai Mi ha rotto il cazzo Il Divine Sunderer Cioè era il problema Il Divine Sunderer Ma era quello Che rovinava il gioco Era il Divine Sunderer Il problema di League Era quello Adesso Non ti consuma più Il mano Nel momento in cui Si attiva lo scudo Grazie Riot Apprezziamo anche questo Non buildate Mai più la forza Della natura Non sto scherzando Non buildatela mai La versione nuova Costa 100 gold in meno Ti dà 50 HP in più 10 resistenza magica in meno E adesso La passiva Non servono 6 stack Ma ne servono 10 Che Ottieni movement speed La stessa quantità di prima Che mese siamo A che mese siamo A che mese siamo A che mese siamo A che mese siamo Maggio Maggio E Riot mi fa Disitem Da quando c'è questa Force of Nature Da quando c'è questa Force of Nature Di merda Quando è che hanno messo La Force of Nature Così Vai Da gennaio Da quanto tempo Facciamo un anno Facciamo un bel po' di tempo Facciamo 6 mesi 7, 8 Mettiamo mesi Mettiamo mesi Indefiniti Questo item È semplicemente Troppo forte As a single item Resist purchase It can give Over 50% Total damage reduction 50% Di danno ridotto Da solo A maggio 2023 Dopo che è stato A dominare Da solo In contrastato La solo Chiù Per mesi Perché non so Quanto esattamente Dico mesi Riot a maggio Del 2023 È troppo broken Che è troppo broken Lo si sa Da L'inizio Dall'inizio Perché ho sentito Lamentare Se questo item Da Da Tempo Che non riesco A contare E adesso Non ti dà più Riduzione I danni magici Flat Perché ti dava Appena arrivi A massimo Dei stack Subisci Il 2500 Di danno Magico In meno Adesso ti dà Soltanto 30 I magic Crazy bonus In più In un fight Se tu prendi L'abyssal mask Spendi 400 Gold In meno E ottieni Una statline In più forte Perché dovrei Prendere la Force of nature No la domanda Non è La domanda Vedi che Pensa sempre Nel modo sbagliato Se questa è la verità La domanda Non è Perché dovrei Prendere la Force of nature La domanda è Perché Esce live Una pace Del genere Non è Perché Prendere L'altro item Di merda Perché Prende la Force of nature Perché esce Una roba Che fa più Cagare Dell'altro item Che costa 400 100 gold In meno Questa È la cosa Da dire Tieni una statline Più forte Perché dovrei Prendere la Force of nature Per la Movement speed I guess È l'unica cosa Che vale la pena Di questo item Bene Grazie L'agor L'agor drinker Vedi il costo Ridotto Di 100 gold E ti dà Più hp Per ogni oggetto Leggendare Successivo Che è carino Ma non è Una cosa Incredibile È Ok 100 gold Di quanto Speed bonus E 10 Di ad In più Il costo è Variato Le statistiche No il costo è aumentato Di 200 gold Perdonatevi Ma Ok Per quello che ottieni Ne vale decisamente La pena Vabbè ma almeno Ha aumentato il costo Le resistenze le ottieni Comunque allo stesso modo Di prima Quindi dovresti prenderlo Come secondo Terzo oggetto Vedremo Se ci riusciranno I saluti Lord Dominic Io non so perché Non li abbiano messo Con i cambiamenti Nel oggetto di acritico Perché Adesso non solo Aumenta i danni Fisici Dipendentemente Da quanti HP hai In più Tu Nel quanti HP Hai il tuo avversario Ma adesso aumenta Anche i danni magici Io sono tipo Eh Ok Va bene Riot Siete impazziti Questo è veramente Forte È veramente Veramente Forte Il Lost Chapter Costa 200 gold In meno Finalmente Almeno Adesso Adesso Vuol dire che Tutti gli oggetti Che si buildano Con Lost Chapter Ti ritrovi con Il costo aumentato D'oggetto finale Ma almeno Arrivi prima All Lost Chapter Che è un errore Di merda Che è un errore Di merda Perché becchi Prima E hai uno spikino Prima Che ti aiuta In early game Do you want to know There's some risk This change In major rate You tend to be Top performance In pro play Esatto Io sto pensando A quello Becchi 200 gold Prima È molto comodo Almeno Questa roba Che aiuta Almeno Questa roba Che aiuta Perché capisco Che qua C'è qualcuno Che capisce Almeno Questo Almeno Questo We want to Acknowledge Some risk To this change Given mages Already tend to be Top performers In pro play Attualmente Non si giocano Maghi in pro play Si giocano Tanki In mid play Stai zitto Le messai Ha fatto uscire I tank Brutto pezzo Di merda E ste robe Pumami Fanno incazzare Prima Non si giocavano Queste cose qui Si giocavano I mage Questa roba qui È rotta In culo Questa roba qui È rotta In culo Non insultare No lo insulto Perché il meta È cambiato Un attimo Nelle messai Dove hanno iniziato A giocare Sante Mide E quelle cagate Lì Non è che Sono morti È che Quella roba Lì è broken È che Quella roba È broken È che Quella roba È broken Questa cosa qui Non è che I mage Fanno schifo È che Quella roba Lì era Broken In culo Bene I mage Non fanno Schifo E questa roba Li rende Over broken Bene Quindi Io quando leggo Questo È diverso State guardando Il competitive Io penso Ma capisci qualcosa Del gioco Invece di flammare Chi del competitive Sa qualcosa O avete letteralmente Ignorato il fatto Che la gente Preferisce giocare Altre cose Piuttosto che Maghi Midlane Allora Lapo Lapo Se una cosa È broken Ascolta Io Ho bisogno Che qualcuno Abbia il cervello Ho bisogno Che qualcuno Di voi Abbia il cervello Se i tank Sono broken Non vuol dire Che i mage Non sono forti Non vuol dire questo Vanno nerfati I tank Non vanno Baffati I mage Capiamo Come funziona Ci arriviamo Non puoi Rendere una roba Over broken Per matchare La roba Broken Così deve funzionare Così Dico Ah Ok La Mar Mortis Vede il costo ridotto Di 100 gold Bah Lo scudo dura La metà E ha un cooldown Più alto di 15 secondi E quindi grazie Perché almeno i maghi Possono Qua sono d'accordo Con la Qua sono d'accordo Spravvivere e respirare In questo meta E il copricapo I ravadon ti dà Il 40% Di potere magico bonus In più invece che 35% Quindi Carino Non male Un aiutino Non è la roba Pi' incredibile Alla vita Su 800 ap Si parla di 40 ap Su una full build Sono tra i 20 E i 40 Di ap In più Che non è tanto Ma non è neanche Non è tanto Non è tanto Non per il cazzo È buono Poco Quindi dico È ok È un buon aiutino La Sterak Adesso ti dà Di nuovo tenacia E di aumento Delle dimensioni Giusto prenderlo Un pochino Pi' intrigante Per alcuni fighter Che non lo prendevano Più Praticamente È ignorata così Ma che vuol dire Ma scusa Ma senti Come può ignorare Gigantification Nella Sterak Ma cosa vuol dire Ma come può ignorare E scartare La roba così La Sterak Dà di nuovo L'aumento Di grandezza E il 30% Un pochino più intrigante Per alcuni fighter Che non lo prendevano Più Praticamente Lo strikebreaker Ma facciamo Dacciare lo strikebreaker Ancora 10 di AD in più Che almeno Ti permette Di pareggiare Quello che È il potere Del Divine Sunderer Quindi fottiti Divine Sunderer Non prendetelo più La 3 di forza Adesso Le 3fold strike duration Cioè l'aumento D'AD bonus Passa da 3 secondi Di durata A 5 secondi di durata A 5 di AD in più E 5% attack speed In più Questa uguale Buona cosa Buona roba Che buona Perché di tutta la pace Perché di tutta la pace Io sono l'unico nerfato Ma com'è possibile Cioè Hanno buffato tutto Tutto hanno buffato Tutto Gli assassini La jungle L'assassini Con i Ghostblade La top lane Con queste cagate di merda Qui alla fine Gordrinker E altre cagate Gli addicari Sono rotti Gli utility Enchanter Sono buffati I playmaker Sono nerfati E qua Sono conclusi I cambiamenti Degli oggetti Passiamo Agli altri cambiamenti Che sono praticamente Mirati All'early game Adesso La fontana Ti rigenera Più mana Questo ti permetterà Di uscire Dalla base Più velocemente Grazie 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 Veramente Straordinario Straordinario Cambiamento Di metà stagione 2023 Signori Incredibile Incredibile Grazie Riot Che questa è una grossa modifica Che aiuta molto Longguard Timer Cioè quando si attiva L'effetto del longguard Cioè l'accelerazione Quando tu esci fuori A base Non si attiva più A 20 minuti Ma attiva A 14 minuti A questo modo Dovrebbe essere Un pochino più semplice Andare a difendere O reagire Alle azioni In giro per la mappa I blast cone Cioè Le conifere esplosive Che c'erano Che ti permettevano Di saltare Dalla giungla Dentro al fiume Non spawnano più A 5 minuti Ma a 9 minuti Grazie 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 Ne hanno fatta una Giusta Ne hanno fatta una Ne hanno fatta una Ne hanno fatta una Fatemi bene L'acqua fiugida Ne hanno fatta una Dai Grazie Riot Alleluia E meno male I minion Questo è il cambiamento Che tilta di più I giocatori competitive E quindi Quando vedete in giro Su internet Analyst e quant'altro Che strillano Non pensate al fatto Che loro Cioè Non pensate al fatto Che loro dicano Questo cambiamento È una merda Pensate al fatto Che loro pensano Di questo cambiamento È una merda Per il competitivo Perché Perché Ci vorranno Ben tre settimane Per capire Come dobbiamo fare le cose Che cosa orribile Io davvero Spero ovviamente Che smettano di ascoltare Certi Certi strilli Dal competitivo Perché Vi giuro Vedere questo MSI Mi ha fatto pensare Se non avessero ascoltato I pro player Forse avremmo avuto Un vero MSI Se smettessero di ascoltare I pro player Che strillano Potremmo avere Delle competizioni Un pochino più divertenti Da guardare Non solo Non solo Vengo nerfato Da Riot Vengo attaccato Da Riot Preso per il culo Ma Terenas Flamma i pro player Che si stanno lamentando Della più grande Modifica di sempre Per quanto riguarda Le wave Dominion Che Non cambierà E non fixeranno In tre settimane Fixeranno In mesi Esimia testa di cazzo In mesi Perché noi Ormai non più io Perché ho smesso di giocare Giochiamo Dieci ore al giorno Sei di allenamento E tre Di guardare Replay di merda Più la solo Chi ce la fa E questo cambiamento Cambia Tutta La dinamica Della mid lane Il che cambia Tutta la dinamica Della jungle Il che cambia Tutte le dinamiche Delle solo lane Il che cambia Tutte le dinamiche Del drafting Parliamo di questo Adesso Escutendo la prima Andata di minion I minion in mid lane Si incontrano Allo stesso tempo Dei minion in side lane Che cosa vuol dire Questa cosa I minion in side lane Sono più veloci Escono sempre Le stesse guanti ai minion Semplicemente Arrivano un pochino prima Dopo i 14 minuti Questo effetto Non c'è più Non solo I minion che stanno Già colpendo una struttura Se tu Se tu sei sotto torre I minion avversari Colpiscono la struttura E tu Stronzo Autoattacchi Il tuo avversario I minion Non cominceranno Ad autoattaccare E te Questo è fatto apposta Per permettere Una difesa della struttura Un pochino più tranquilla Se arriva un tower Non avrai anche Da contare i danni Dei minion Bello 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 Riot Bello 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 Porca puttana Bello Bellissimo 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 Capilco Imparo il problema Ha ragione Il problema però Non si può non provare Qualcosa di vero Perché poi è difficile Abituarsi Va provato Belte Non ho detto questo Non ho detto che è sbagliato Sto dicendo di non banalizzare Quello che dicono i pro player Perché cambia tutto Il fatto che Le wave in silence Sono più veloci Cambia la mid Cambia la jungle E cambia le side Non sto dicendo Che è un figlio di troia Di non banalizzare Quanto ci Ci vuole Per apprendere Una roba così Che non è Devi imparare Non è così Ci vogliono mesi Per masterare Quando devi considerare Ovviamente Partendo tutti Allo stesso livello Partendo tutti Allo stesso livello Chiaramente Chiaramente Sembrerà che Qualcuno abbia Masterato prima Ma non funziona così Bene Ci vogliono mesi A masterare Una cosa così No male A questo E questa serie di cambiamenti Ha tiltato in pro play Perché Ah ma adesso come facciamo I dive e le rotazioni La gente deve solo abituarsi Il sistema nuovo I dive Sono più facili Le rotazioni Posso dirti di sì Ma se mi dici Che i player Si sono lamentati Dei dive Quando i minion Non aggrano più Le persone che stanno Diveando Direi che stai dicendo Una cazzata Bene Questa roba qua Del dive Vuol dire che Se prendi un lusso In matchup In sideline E specialmente In top lane Prendi il doppio Il cazzo Bene Non è un cambiamento Piccolo Bene Capite Cosa vuol dire Questa roba Bene Come no È il contrario Non aggrano Quelli Sì vabbè Dai Non rompete il cazzo Dai Non rompete il cazzo Sì dai Non rompete il cazzo È la stessa roba Intendevo quella roba lì Non è più difficile Non è più difficile Minions Non è più difficile Non è quello Non è più difficile Da evare Non è più difficile Da evare Qua c'è scritto Qua c'è scritto Che i minion Che stanno colpendo La torre Nemica Ignorano Ignorano L'attaccare Il campione nemico Che sta Daivando E rimarranno A focussare la torre La tua wave Ah è vero Vabbè Quello che si gira Ah è vero Cazzo dico Sto trollando Sto trollando Il che però Non cambia Aspetta Il che però Non cambia Il risultato finale No no avete ragione voi Il che non cambia Avete ragione Non c'è un problema ragazzi Non è che vi dovete rompere il cazzo Non c'è un problema Il che però Il che però non cambia Ragazzi non ho problemi a dire Che ho sbagliato E ho capito male Rimane il fatto Rimane il fatto Ragazzi Rimane il fatto Che cambia comunque La top lane Perché è più difficile Da evare È cambiato qualcosa Bene È il contrario Ma cambia comunque Quindi il match up Godimento Quindi silenzio Perché non cambia un cazzo Riporce Ragazzi sono tre ore L'apo prima ha detto Che è mezzanotte e mezza Qua ragazzi Sono le 7 e 40 E sto smattando La tre ore Ho capito Ma lei Ci sta Mi dispiace Avete ragione voi Sbaglio una roba Voi Mi date del Del Daffanculo Ma io Ho sbagliato signori Può succedere Rimane il fatto Che è più difficile Da evare Ovo come hanno sempre Fatto i player competitivi Ma per voi SoloQ player Che cazzo cambia Semplicemente Dovete usare un po' più testa Prima di andare in roaming E stare attenti A dove sono le ondate di minion Posizionate E questo è quanto E come Cosa cambia in SoloQ Deve solamente usare la testa Sublime L'app è clamoroso L'app è il top del top Nel far tiltare la gente Ma li hanno posizionati i propri alleati Fine Questo è tutto Le strutture adesso Quando tu le vai a colpire Vai ad aggiungere Non soltanto la di bonus Ma anche il tuo potere magico Questo È un buff insignificante Per quei campioni Che prendono un po' di AP E un po' di AD Non è un valore Che va a fare Un'enorme differenza Però le build ibride Ne trarranno beneficio Per quanto Marginale Ci sta È proprio Poco 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 Le placature delle torri Nel momento in cui Tu le vai a colpire Come gruppo Adesso Se tu siete Se già siete da soli Prima Che cosa succedeva Se tu colpivi Una placatura da solo Non otteneva resistenza bonus Per 20 secondi Era zero il valore Ma se eravate in 2 Otteneva 45 Se eravate in 3 Otteneva 90 Se eravate in 4 Otteneva 135 Se eravate in 5 Otteneva 180 Armory Magic Resist In più per 20 secondi Adesso Anche se tu stronzo da solo Ti prendi una plate Che cosa succede? Quella plate Ci prende 45 Di Armory Magic Resist Per 20 secondi Questo è fatto apposta Per non trovarsi Con 50 placature Che cadono In fretta e furia Quando c'è un buon Tower Dive Tutto qui Concludiamo Tutto qui Questa roba qua Allunga la durata Dei game Di 1 minuto e 30 Di 1 minuto e 30 Minimo 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 Bene Minimo Il tp pot Tutto qui Questa roba Aumenta la durata Dei game Potenziato Non ce la faccio Non ce la faccio Grazie signore Il tp potenziato Adesso è da 10 minuti E non a 14 Wow Il cooldown del tp potenziato Però scala Con i livelli del campione Da 1 a 10 Da 330 secondi A 240 secondi Ci sono tanti Cambia meno Non ho capito il senso Perché Cambia tanto Cambia tanto il gioco Cambia tanto il gioco Cambia tanto il gioco Ora Bella così Grazie Riot Per aver ridato Una side lane Ai tank O comunque Ai side laner Di poter essere presenti In giro per la app I trinket Si conclude Ditemi che almeno I trinket Per il sapore Sono baffati Ditemi che almeno Il trinket È baffato Con alcuni cambiamenti Ai trinket Che anche questi Non sono roba da poco La Farsight Alteration Adesso ti dà visione Oltre ai muri Per 500 unità Grazie Adesso pinga I campioni nemici Che vengono rivelati Sulla minima Grazie Appena viene spottato Un nemico Per la prima volta Il Farsight Pingerà il campione nemico Sulla minima Espande il raggio Visione a 800 unità E poi si distrugge Giusto per dire Almeno la Farsight L'ha utilizzata Un po' più spesso Ok dai Va bene Va bene L'oracle lens Adesso ha due cariche Adesso Se il proprietario Della lente dell'oracle Colpisce un lume Il team guadagna Visione sul lume Così possono continuare A cleararlo Quindi il support Cosa fa? Va in giro Con uno stronzo Colpisce una volta un lume E poi il resto del lume Viene pulito da qualcun altro No Non è così però Ok bello Bello sta roba qua Bello Hai due cariche Il tempo tra le cariche Non è più 120-60 secondi Ma è 160-100 secondi Due cariche Però la durata è di 10 secondi E diventa 6 Se voi calcolate Che ci sono poi Due secondi di visione Ok dai Questo vuol dire Rendere possibile Per 8 secondi Ok 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 È giusto Questo dovrebbe aiutare Non poco Bello Il clearing dei lumi Questo è bello Questo è bello Al suo tempo Se tu utilizzi male Nella lente dell'oracle Sprechi le cariche Quindi non riuscirai A negare visione Come potevi fare prima Ma dovrai investire Di più E avere un cooldown Più punitivo Rispetto All'utilizzare Una singola volta In quello che era l'epoca È più grossa Di 2 anni di patch Grazie Riot Per aver ascoltato La gente che dice Che il gioco Era un pelo stantio Ma grazie Riot Che cosa Buonasera No no Gioco adesso Ma grazie Riot Che cosa Grazie Riot Per aver ascoltato La gente Che ha detto Che il gioco È stantio Il gioco Era Una merda Che stava migliorando Da gennaio Ad oggi Il gioco Ha fatto così Così Ora Il gioco Fa così E va via All'indietro In basso All'indietro Neanche così Fa così Oh no Almeno per me Almeno per il mio ruolo Poi negli altri ruoli Vi dico Allora In altri ruoli Ragazzi In altri ruoli Avessi tutte le robe Jungle è più divertente Perché è più speed Però è broken Non mi fa un cazzo I millenni I mage Sono baffati Gli assassini Sono baffati Top laner Ha avuto qualcosa Le dichiarie Sono broken Magari Nei vostri ruoli Vi dico Ancora Ancora È più divertente Il gioco È più divertente Perché si sciotta Di più Il gioco Sarà una merda Per me Per me Forse sarà più divertente Perché c'è più roba Che one tap Perché è tutto sbilanciato È tutto sbilanciato Magari c'è gente Che si divertirà Io Io Tilterò All'inverosimile 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 I miei support I mage Sono morti Poi sul nuovo item Per i mage I support mage Sono finiti Sono finiti I mage Finiti Costano troppo Gli oggetti Finiti Sono finiti Gli mage Finiti Gli utility Sono ultra broken I playmaker Sono Non sono morti Sono giocabili Ma troppo deboli Dio Come tre ore e un quarto Ma scusa La perfect live È il più forte Nel mondo È il più forte Tuttavia Per rispetto Farò un altro game Figuriamoci Ma ho veramente Parlato di un video Di Lapo Di 50 minuti Per Due ore e 40 Quanto è durato il primo game? 37 minuti Dalle 5 Per due ore e 50 Ho parlato del video di Lapo Due ore e mezza Sono incredibili Lo voglio tutto su YouTube C'è il mio editor 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 di merda 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 C'è il mio editor di merda